che era la canzone che è passata adesso buona mattina tipo radio? sì Gizar non sei entrato ancora dove? sulle webcam è una grande bugia questa cosa è perché siamo quadrate però ah perché ha salvato le musazioni Gizar hai rovinato la decenza ma io sono sbagliato infatti ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua e aggiorna eh sto aggiornando aspetta guarda te adesso sono un mastro lungo scusami white screen ho messo sì e quindi chiudi chrome riappri riavvia il computer Marco non hai le mani così scusa 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 non eri appeso a niente scusami scusa è di quelli che su instagram su tiktok fanno le gattine fanno chi sono queste qua? fanno le tiktok fanno ahhh non conosco no non conosco purtroppo io volevo aspetta sì io lo devo mettere buona mattina comunque mi metto sempre freddino ai piedini un pochino faccio un piccolo nuncino oggi uomo liggio non ci sarà la live che stronzo perché divento mark per qualche ora no ma che problemi avete al nord senza corrente no perché devono fare dei lavori qua in casa devono stancare la corrente purtroppo quindi sei come a casa mia solo che non per però è giustificato sì è giustificato non per sempre la moglie di conseguenza direi che di Star Humans lo entro un po' qua anche perché ho visto che mancano ancora quattro ore non so quanto dura sto gioco perché fa cagare dai diciamolo no è bello però sta diventando un po' monotono anche perché settimana prossima vorrei fare il simulatore di Birraio visto che esce oggi sì e quindi lo faccio settimana prossima o quello o un altro gioco non ce l'ho già in mente quindi direi che essere Marco sarà difficile vabbè adesso non c'è bisogno di offendere grazie Fabio grazie Fabio Marco ti sei portato l'oracolo che stronzo Marco veramente non pensi dobbiamo togliere che è uscita la doppia cosa anche qua ma è la quale di 72 basta no? è uscita doppia anche qui sì Duke ci sei? 72 month quindi sarebbe ecco poi riesce a correggere la sta cosa dei sei anni che esce la doppia sub sia quella vecchia sia quello esce in tutti i due i cosi degli alert praticamente c'è lo stesso coso in tutti i due bisogna toglierlo in quello bambino vorrei saperlo anch'io vediamo un po' che dice il termoracolo ah io vorrei ben saperlo durerà poco vero? è vero che prima o poi morriamo tutti ma prima è meglio poi è incredibile che ti ha fatto non morire Marco però mi raccomando speriamo di no speriamo di no non adesso almeno prima o poi che dobbiamo fare ragazzi ci vuole un po' di pazienza ci vuole un po' perché in carcere è in libertà vigilata per no non è vero purtroppo è successo un casino con il contratto per chi non sapesse ieri l'ho accennato nel gruppo dei sub è successo un casino con il contratto della luce attualmente abbiamo una potenza talmente bassa che non mi permette neanche di accendere il computer e quindi stiamo un kilowatt ci va solo il frigorifero no va qualcosina però si accende il computer forse la tv non va se c'è il frigo acceso la tv non va forse la tv una tv adesso mi diceva mia mamma che hanno il frigo e la tv e una voce allora comunque secondo me c'è anche altro perché comunque se questa roba ve l'hanno attivata ieri comunque vi saltava la corrente comunque giorni prima sì sì no ma io l'ho detto a mio padre che comunque secondo me c'è qualcosa però tu specificavi che era quando c'è il forno quindi probabilmente il forno a prescindere qualcosa che non va sì secondo me arriva dalla cucina ma adesso il contratto come te lo rimettono a tre e mezzo a tre adesso abbiamo fatto quattro quattro potremmo anche aumentare però per ora meglio stare fermi con le manacce non voglio fare niente noi con il condizionatore abbiamo quattro e mezzo e abbiamo tre condizionatori quindi no non era e spesso l'abbiamo tutti e tre accesi quindi non ce l'abbiamo con Eni il contratto comunque no vabbè comunque sia è stato anche un errore di mio padre quindi non posso prendermela solo con loro diciamo che tecnicamente è più un errore di tuo padre poi di conseguenza io boh cioè per me non è un errore è stata più che altro un'ingenuità vabbè ma tuo padre ha messo per sbaglio nel nel contratto su internet ha messo un kilowatt ma io cioè adesso se volete lo ritengo cosa è successo eh vabbè ma l'avevo detto anche io ieri nel gruppo praticamente tuo padre per modificare il contratto online invece di voleva fare più un kilowatt voleva mettere un kilowatt in più e invece un kilowatt era era il totale ma come come fai a mettere che è possibile in centro a Monza un kilowatt ma tra l'altro dal sito si può mettere anche 0.5 considera per un single che magari è sempre via di lavoro magari serve solo il frigorifero e una tv un kilowatt gli basta sì vabbè ma perché dovrebbe no ma perché dovresti perché dovrebbe un kilowatt risparmiare quello lì è il range risparmi no perché ci sono i contratti fissi che se tu arrivi fino al massimo quello paghi molto meno ho capito perché metti che qualcuno ti ruba la corrente ma se un kilowatt comunque non gli serve sì ma non è sono veramente robe da copio no però sono i contratti specifici e fare l'avvocato del diavolo non è non è se 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 io voglio fare da un kilowatt perché non posso farlo se tu non me lo fai fare è quello il problema no dovrebbe essere un contratto speciale che non te lo fa fare così alla leggera cioè un kilowatt per un garage un kilowatt esatto può essere o una casa in campagna dove non hai elettrodomestici riscaldamento e robe però dovrebbe essere un contratto speciale dove ti metti d'accordo con può essere può essere può essere una casa che ha i parnelli solari e roba del genere comunque hai bisogno magari di un minimo per sicurezza e fai 0,5 o 1 sì ma dovrebbe essere comunque un contratto speciale diciamo diciamo che sicuramente è stato un ingenito di mio padre però il sito è fatto poi più che altro la cosa che mi ha stupito a me è che tu puoi andare sul sito cliccare questa cosa mandi il documento e lo fa cioè si fa veramente easy per cui se uno non ritornare indietro ci vuole di più penso tra l'altro ho beccato prima di beccare l'unica ragazza che ha capito la situazione è stata comprensiva eccetera ho parlato con quattro persone diverse tre persone diverse di cui uno non era praticamente italiano e non capiva una mazza di quello che dicevo io adesso io cioè nel senso trovo assurdo che ci sia per aiutare i clienti una persona che non capisce niente di italiano a me davvero io davvero non capisco cioè non capiva nulla di italiano e lui non sapeva parlare bene io non so come sia possibile però vabbè siamo riusciti dopo che sono passato ho passato due ore e mezza al telefono esatto basterebbe anche un avviso tipo hai impostato un valore non comune non comune di cosa sei sicuro di magari è anche uscito magari su 4 non c'era non c'era perché poi quando l'ho upgradeato di nuovo a 4 non mi ha dato nessuno cioè non mi ha detto nessun avviso perché a 4 va bene non penso secondo me più che altro è un po' specifico che ti dicano guarda che c'hai meno della cosa nazionale cioè lì sono non ti fanno i controlli sono problemi tu hai che tu scegli quanto metti sì sì ma io ripeto infatti è stato assolutamente l'ingegnerità di mio padre e ognuno ma che poi stiamo pagando le conseguenze però è veramente troppo facile ma non c'è neanche una cosa che dici sei sicuro? no dico non c'è non è neanche una cosa che sono no sono loro che vogliono incularti no in qualche modo perché non gli viene niente neanche a loro no perché paghi meno no ma paghi di meno poi chiaramente non è una cosa no fate cioè che gli crea problemi anche a loro quindi non boh ma non c'è non è arrivato un email ti reso conto quando fai il conto l'email che è arrivata era solo per dire hai cambiato generica cioè ti dice deve mandarci i dati per cambiare la sua energia questo e tutto ma non c'era addirittura ti ripeto che quando io ho chiamato uno dei due servizi clienti che mi hanno dato che poi non è servito a nulla perché era una tizia che era solo antipatica e volevo urlargli in faccia ci hanno detto cioè per capire che potenza avevamo attualmente ha dovuto fare mille giri controllare su un sacco di roba perché non lo sapeva neanche era perché il contratto gli si è attivato ieri quindi probabilmente no ma perché era un servizio clienti della mia esterno esterno e quindi loro hanno detto no perché lei deve contattare il cliente noi possiamo guardare tu cos'è che hai con la corrente cos'è Enerxane come si chiama Enerxane adesso si unirà diventa un altro nome vabbè non lo so comunque poco importa insomma sta di fatto che adesso se tutto va bene che oggi riesce a dargli come si dice accelerare le cose per lunedì potrei averlo altrimenti no dipende quando lì si attiva il nuovo contratto a loro perché tanto lì poi basta un click cioè la cosa che ho trovato assurda è che da passarmi da tre e mezzo che avevamo prima a uno ci hanno messo due giorni adesso mi dice che forse lunedì non riesce perché si devono attivare i contratti lei mi ha detto perché si sono sovrapposte le richieste perché adesso ti hanno attivato però nei sistemi deve ancora comparire effettivamente tutto quanto la trafila quella bravissima comprensivissima mi ha detto guarda faccio di tutto però purtroppo io ancora al computer non ho quella nuova quindi non posso accelerare niente perché non ho niente in mano grazie qui era un concorso di colpa purtroppo indubbiamente l'errore di mio padre c'è stato ovviamente perché poi la domanda era anche strana perché la domanda era quanto vuoi di potenza mio papà era convinto che quella era la sezione per aumentare quindi ha pensato non è a casa sua semplicemente no sono venuto dalla mia ragazza perché almeno posso stare al pc posso fare la rassegna posso giocare alla switch perché con Moro probabilmente al fine poi lo facciamo lo stesso facciamo lo stesso facciamo in tre o vuoi invitarlo a questo punto domani sera con Moro possiamo fare fate switch domani sì domani sera perché pensavo anche quasi ieri sera ci siamo divertiti un sacco su giallopi quasi quasi domani sera replicherei però insieme cioè così facciamo due charle ma anche se giusto per tenerlo in sottofondo e fare due chiacchiere perché posso continuare dove sia rimasti ieri che lo volevo rifare però rifarlo da solo un'altra volta come ieri ha senso però però ci sta anche fare due chiacchiere stasera tra l'altro facciamo fasmofobia con Lino con Lino magari chiedo chiedertarlo chiedo a Fran anche se no o a Clay sì non c'è mai stato con noi la stanza è un po' simile alla mia effettivamente c'è il armario un pochino ricorda no non ci sono i led però ragazzi quello fa capire tutto no no che d'oglia quelli non hanno chiediamo a Fran comunque vabbè adesso spero che a me più che altro dispiace perché comunque creati saggi anche a loro questa cosa però davvero non posso fare altro io purtroppo diciamo che Grounded viene un attimino oggi lo facciamo lo stesso magari magari viene un po' rallentatino magari oggi oggi farmiamo mettiamo a posto la casa analizziamo varie robe robe così e così aspettiamo un pochino martedì in base a quanto esatto sì grazie Romax grazie Romax grazie Romax no no non posso accendere il computer attualmente non posso accendere il computer e se no rimaneva a casa mia se accende il computer saltava e siccome tra l'altro non è che posso fare i test perché se faccio saltare il computer 3-4 volte è capace mi parte qualcosa e non è il massimo già è successo un paio di volte è meglio evitare però dai insomma Franci mi sta salvando la vita in questo caso comunque partiamo con la rassegna sto tra l'altro ragazzi amici io ricordo perché ricordo sempre a tutti potete chiunque di voi può partecipare alla rassegna al termogiornale perché potete andare nella sezione di discord nella sezione appunto rassegna stone che è mettere le notizie di oggi più buffe più divertenti quindi le notizie di oggi articoli che trovate anche cioè anche se non sono buffi divertenti anche curiosi che pensate ci sia una che ci possa nascere una discussione robe curiose più che buffe partecipate potete sempre darci una mano perché insomma dipende tanto anche da voi la rassegna perché più notizie ci mettete chiaramente non mi mettete è morta la regina Elisabetta è quello no notizie divertenti o assurde particolari non mettete robe no no più che altro ma guarda in realtà potrebbe essere curioso anche le notizie di croc nella canera cioè robe che non non sono sulla bocca di tutti che apro internet e già la vedo cioè robe un pochino più di nicchia ecco su discord sì 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 su disco potete andare Marco per favore tacci ecco che c'è Eliezer che ha un problema terribile non sai come risolvere aspetta risolvi mamma mia che schifo mamma mia Marco allora Eliezer secondo me potresti provare io ho questa soluzione qui si chiama si chiama waterdrop si chiama non so vai in ordine prego vai con questa recitazione over 9000 Eliezer io l'ho visto sparire con una macchia perché da me andava a 4 frame però Eliezer hai fatto il tuo ordine sentito anche oh my god incredibile poco giù da Eliezer velocissimi sono delle waterdrop eh sì sei sono incredibile sono proprio sei come il numero quello così sì sì grazie mailman qual'hai preso aspetta attiva l'altra web per un attimo no Eliezer smettila no perché volevo fare anche la cosa bellissima la falle vedere lì non c'è no perché faccio vedere che si colora scusami se mi sembra eccessivo per il fattigiano appunto vorrei vederlo no con qualcuna si colora sì vediamo perché ho già pronta l'acqua trasparente è già trasparente la bottiglia bravissima l'acqua trasparente vai aspetta c'è tutta di cum questa webcam maledizione al secchio Simone ma è frizzante? no è naturale allora mi hanno dato perché lì allora ho fatto l'ordine non è che te l'hanno data Eliezer no non l'ho preso io e no perché c'è l'ordine quello che ti fanno la surprise quello che ti fanno la surprise scelgo loro sei gusti sui non è il pack è il pack quello di quello da quattro vicero fanno proprio la surprise sì allora mi hanno dato focus tanto c'è più pubblicità a San Pellegrino che a focus non ce l'ho sai cos'è cos'è focus aspetta ma c'è scritto dietro c'è scritto dietro non c'è scritto nulla in qualche parte ci sarà scritto dovrebbe essere gusto misto rame ecco qua allora lime baobab e acerola baobab che gusto è vabbè di legno scusami lime è la cosa più buona del mondo infatti quella è una di quelle che avrei voluto provare subito poi c'è il gusto flare è quello che c'è proprio in mano veramente ah vedi fiori di sambuco fiori di tiglio lampone è molto è molto buono qua c'è il relax relax non ce l'ho mi sa ibisco aronia e acer buono l'ibisco è buonissimo è un po' acidulo l'ibisco questo magari dopo questo è love non ce l'ho melograno bocca di goji non è bocca è bacca schissandra schissandra è milanese credo schissandra si è palesemente milanese poi c'è il boost il boost ce l'ho ribes nero fiori di sambuco e accai è quello con la noce di cola no 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 è con ribes e fiori di sambuco aspetta 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 no io c'ho ah boost è questo qua ok ce l'ho anche questo eh non era non era buono anche questo e poi ce l'ho yut yut questo che è giallo e cos'è pesca zenzero ginseng e tarassaco tarassaco il tarassaco non mi ricordo il dente di leone Marco i dandelion il tarassaco io vi ricordo di averlo già assaggiato non so in che occasione è l'erba cotta Marco l'erba cotta dentro ci metti il tarassaco quale vogliamo quale volete vedere il lime il lime quindi il verde quello che mi ispira di più si poi c'è il baobab dentro io avevo lo sapete che il mio libro di quando facevamo lezione all'elementare si chiamava baobab volevo darvi questo piccolo inside joke che non è un inside joke da piccolo mi mi affascinava un sacco il baobab perché questo albero è gigante immenso quindi il lime baobab e acerola l'acerola mi pare sia in provincia di napoli anche melograno era interessante però il lime acerola sono la mozzarella di acerola no? sembrano delle ciliegie sembrano però non lo sono assolutamente cosa sono? non so grazie Dani questo non credo che si colorerà l'acqua ma non tutte si non tutte si colora no non te lo gratti ottavi quello è il fiordirate di acerola metto stavo pensando più ad acerola io ma che sta effervescendo è rotta l'edalone ferva ma cambia anche il colore chissà ragazzi secondo me questa no sta comparendo roba fra stasera ma c'è un tornare sei in live fino alle 9 per caso francesco mi devi sostituire perché serve praticamente un ragazzo più o meno del 93 perché nei termosifoni ne manca uno per ovvi motivi del sud del sud questa è un'altra cosa e potresti servire francesco per fare farmofobia con noi e lino è una vita che dobbiamo fare cosa assieme francesco adesso che ci sei non ci sono io quindi comunque non siamo insieme magari non c'è e dice non ci sono sono a drogarmi è un trasparente opaco adesso la bevo quando finisce di efferve si quando finisce di efferve c'è Franci che quando starnutisce fa così ci vabbè così proprio dice ci come bui grazie Lorenzo Marco hai citato Wampish ancora scusami è troppo divertente tu moro invece cosa bevi oggi? no io oggi faccio sciopero non bevo no proprio non bevo oggi amici appunto punto escapativo non ci sono allora facciamo fasmo fra c'è anche lino tra l'altro mi piace però c'è anche lino sì siamo io gli Ezzer e lino tra l'altro nel video di Hugh Jackman e Ryan Reynolds c'era Ryan Reynolds che faceva così no c'era Hugh Jackman no Hugh Jackman faceva così faceva era proprio un giovane comunque punto escapativo waterdrop se volete qualsiasi acquisto fate se mettete termos 10 nel carello avete il 10% tra l'altro se comprate quello che ho preso io non vi arriva il track del come si chiama del bacco grazie thunder perché lo spediscono con le poste e a me l'hanno spedito il giorno stesso quindi probabilmente è arrivato il giorno dopo la samba waterdrop thunder è proprio un coglione c'è da dire qui sta ancora fervecendo guardate che figa la custodia della civice degli lakers allora intanto che Marco fa vedere qualcosa che non frega niente a nessuno vado a riempire la mia bottiglia d'acqua torno subito è vero diceva Kevin Feige perfetto ci sono eh Francesco purtroppo io e te non potremo mai giocare in live insieme questo è il nostro destino io purtroppo non potrò giocare proprio in live in generale ma che bella è fighissima poi lei ha anche la switch gialla quindi è tutto giallo e viola come i lakers già finito lo sciopero di mor si si ma è un diventato un po' è diventata tipo una sprite un po' più densa c'è un po' di verde qua sopra sono curioso perché il lime potrebbe essere sta ancora effervescendo ma si sta praticamente sparendo la pastiglia quindi si è quasi sciolta tutta tra l'altro questa è circa mezzo litro le pastiglie sono da per 400 600 quindi più o meno ma Marco hai provato a produrre energia elettrica con la cyclette come no non si può ci vogliono quelle apposta credo che ci accendi una lampadina forse no ma poi ci vogliono quelle apposta non è che vuoi attaccarla tua pensa che twist che gli fa cagare pensa che storia può capitare i gusti sono gusti ragazzi invece quella al melone al cocomero che fa cagare sicuramente non piacciono tutti i gusti qui sta quasi finendo di sciogliersi che bello che tra l'altro saltella la pastiglia allora io intanto uso culo purente grazie mille grazie culo la mia prefe uso che vibe non so se si vede lì sotto che sta ancora salta qual è la tua moral vibe no sta ricollando vibe si no di più ma è salita in superficie rosmarino menta e al kekenji ah ok quindi quando sale in superficie l'ultimo pezzettino direi che è finito infatti si è sciolta completamente è come la la cosa la cosa come si chiama la spirina la spirina no c'è ancora un pochino è effervescente boh provo sbatti l'alienzo sbatti la fortissimo no non è vero non c'è bisogno stai incasinando tutto sa di brodo o di pollo sa di limonata è esattamente la limonata è un pochino più blanda buono buono è buonissimo si è veramente tanto buono gli altri gusti la sniffa la tritura la mette insieme con le carte dell'omni cos'erano gli altri gusti il gusto del baobaba non so quale sia quindi non so c'è sempre quell'ingrediente a cazzo di cane però è veramente come se apri una lattina di limonata la lascia lì magari un pochino che magari perde il gas e senti il limone ma l'ho detto l'intensità di waterdrop è quella di un infuso si è molto buona questa è veramente tanto buona è molto leggero giusto per insaporire un pochino l'acqua non te la rendono pesante questa merita poi domani io comunque una me la faccio mandare poi se riusciamo questo pacchetto costa 14 euro con lo sconto del 10% che abbiamo viene sui 13 circa perché costa 14,50 quindi 13 e le spedizioni non ci sono su questo pacchetto qua specifico quindi sono 13 euro ma tra l'altro quante sono? 18 sono 6 per 3 sono 6 gusti per 3 per ogni gusto mi sono 18 pastigliette che costa un po' di più di comprarle specifiche probabilmente più ne prendi perché tipo mi pare un pacchetto un pacchetto così dove dentro ce ne sono 12 costa 7 euro sì perché sono tante ne prendi due sì esatto ne prendi due sono 24 che altro rischi che magari non ti piace il gusto no esatto quello lì lo prendi sono i pacchi di degustazione questo per provare secondo me questo qua è il migliore poi in caso se vi piace talmente tanto potete comprare se c'è un gusto che secondo voi vi piace per forza vi conviene prendervi il gusto specifico perché pagate di meno se vi piace il limone questo qua il lime è ottimo non c'entra niente il lime con limone no però dico sa di no vabbè non c'entra niente non c'entra niente sono due gusti diversi sono due sono due agrumi completamente diversi però sa di limone comunque quindi il lime non sa di limone io preferisco il lime a limone però completamente diversi mi sembra un po' forse sono due agrumi che discendono da due agrumi completamente diversi questo sicuramente ma il sapore sembrano sembrano ma sono completamente diversi ma quindi una bottiglia con il megamix di tutte le pastiglie con tutte con tutte il cestone quello dei pezzi di lego dentro la bottiglia ci metti dentro sette pastiglie diverse vabbè si può fare ma come preferisci il lime è più buono il lime sa di menta sa un po' a me piace di più il lime pure a me sa più di menta però non lo so non lo puoi usare come il limone appunto lo è diverso il lime è buonissimo è la scorza di lime ritorniamo con l'auem per l'usso e se prendete un kit con una bottiglietta potete aggiungere anche una scatolina sì il limone lo puoi usare uno allora c'è se prendete determinati pacchetti potete aggiungere dovete aggiungerlo voi c'è scritto una scatolina di sky che è un gusto gratis quindi voi lo aggiungete e poi ve lo vi da come valore zero nel carello dovete aggiungerlo voi ma si mi ha molto alle fragole cosa cazzo vuol dire scusa come non è vero no no sarebbe bello il calendario dell'avvento di waterdrop però sì che ogni giorno c'è una pastiglia ogni settimana ogni giorno è difficile hai giocato fra io l'avevo giochicchiato anch'io del sport game sarà carino comunque mi raccomando compratelo dal nostro link che vi mette anche in automatico lo sconto quindi non vi dimenticate prendete la link e poi li fate gli acquisti già tranquilli se poi magari probabilmente in alto poi vi sparisce la scritta di termosifone come al solito nei referral link però teoricamente dovrebbe rimanere salvato e basta c'è il codice sconto tanto sì beh comunque cioè comunque fa fede il codice sconto però allora amici volevo dire il momento è di andare in figa volevo dire prima che l'ho detto anche ieri sera però forse non esiste persona alcuna che fa queste cose ma non lo so infatti io mi sento sempre un pochino restio a chiedere queste cose però no stavo parlando con Pasqui ieri sul discorso della sigla del termogiornale che ieri avevamo fatto il discorso che dura il video dura tipo 11 secondi così la sigla ne dura di meno sarebbe da rallentare accelerare le robe così da tagliare un pezzo robe cosà e sarebbe invece figo grazie Antonio Capu grazie mille caro sarebbe invece figo se qualcuno avesse le capacità di fare una versione della sigla di questo qui se qualcuno avesse le capacità di fare una versione termogiornalistica del di che dura quindi 11 secondi da fare da metterne la sigla la sigla l'ha trovata in caso nella stanza di discord di nelle fan art e sarebbe figo per farlo no ha fatto il video lui scusami serve il coso da mettere il suono da metterci sotto fatta con i peti magari sarebbe divertente effettivamente sarebbe ah ma quello lì libera interpretazione vabbè sì un po' di meno 11 secondi comunque c'è il video su fan art su discord che poi uno se sa fare qualcosa si gestirà non è che io ho carta bianca lì è perché io sono una sega canta bianca marco carta canta cantava adesso non lo so adesso sì è perché in carcere non è quella cosa non era andata in porto poi con il piccolo progetto beh la sigla l'hai già fatta quindi possiamo partire sì la oggi allora partiamo con le notizie solite del videogioco non c'è niente allora oggi c'è un bel c'è un bel record intanto oggi beyond good and evil 2 batte duke nuke and forever è stato annunciato 5234 giorni fa mamma mia ragazzi e non si sa ancora duke nuke and forever è stato annunciato nel 2000 scusa beyond good and evil 2 è stato annunciato 5000 giorni fa fate il calcolo sono 4 anni no 5 anni no sono anche più di 10 più di 10 ma no come io non mi ricordo che era stato annunciato così tanto tempo diviso no non era 2017 sono 14 giorni fa ma il primo 14 giorni fa è pochissimo è 14 anni fa scusate 14 anni fa probabilmente che stessero lavorando un beyond good and evil 2 probabilmente è stato detto 14 anni fa per la prima volta gli anni di Marco hanno mille giorni a quanto pare ho sbagliato il ciuccio ma ah ok infatti al momento del riviere originale beyond good and evil 2 non aveva neppure il titolo né c'era dietro qualcosa di concreto però si limitò a dire che c'era il gioco no secondo me molto prima comunque Vector cioè il primo la prima cosa che è stata fatta vedere di beyond good and evil quando si è visto cioè si è visto un teaserissimo dove per un attimo si è visto il maialone mi ricordo non era il 2017 era la prima era ma io 2017 tra l'altro se cercate c'è il video mi sa già il 2017 hanno fatto vedere il reveal trailer mi ricordo non mi ricordo se così 2008 non sono in trailer scusa e 2 nuclear forever quando è uscito 2 nuclear forever è uscito 5156 giorni dopo dall'annuncio che no si ma l'anno sarebbe duke nukem il 10 giugno 2011 esatto è stato annunciato nel 97 ah nel 2011 era stato annunciato nel 97 vabbè nel 2007 si era il trailer il reveal poi però quello quello il teaser il teaser che poi si è sparito il tizio capolidire aveva detto stiamo lavorando a questo gioco ed è uscito anche un trailer concept del gioco poi probabilmente è stato cancellato e tutto nel 2017 è poi uscito quel trailer famoso c'è su youtube il trailer non hanno detto niente vero zero sì dal 2017 comunque sono già passati ormai 6 anni quasi io ho adorato il primo veramente mi sono spaccato sull'xbox e poi allora steam ha svelato i titoli popolari di agosto chi è? vediamo ditemi voi un gioco spider-man popolari di agosto sì ma cult of the lame il free to play quello lì che no ci sono tutti i titoli usciti ad agosto scusami ma come kill the wars 2 minchia anche multiversus dai dai kill the wars 2 ma comunque c'è spider-man remastered cult of the lame destroy the humans 2 perché è uscito in quel periodo lì fresh woman che era quel gioco porno two coins campus gunda che è uscito in quel periodo gundam huk don yuk quello di dead by daylight secondo manager porca vacca a me che è un po' specifico mi sa che era andato c'era il weekend gratis perché è uscito novembre scorso cosa? no formula 1 no formula 1 è uscito a luglio no capito football manager ah no f1 manager poi hanno annunciato le date degli salde di steam salde autunnali dal 22 al 29 novembre in invernale 22 dicembre 5 gennaio primaveri del 16 23 marzo e va bene soliti credo tra l'altro da ieri si può fare parament plus col game pass ultimate c'è un mese gratis di parament? sì un mese gratis con il game pass ultimate però non con gli altri mentre poi c'è un articolone del caro tagliaferri ahia che in realtà è un bel articolo ma con un pensiero per il quale sono completamente in disaccordo e per me è sbagliatissimo cioè è un effetto che ho già preso comunque l'articolo è GTA 6 costerà più di 2 miliardi di dollari che era il rumor cioè quello che è uscito fuori dall'hacker che abbiamo detto anche ieri no e non è una buona notizia dice no e se è tutto l'articolo che spiega del in sostanza in soldoni quello che dice lui è non va bene che che loro facciano un gioco da eh così tanti spendendo così tanti soldi perché alzano talmente tanto le aspettative che eh vanno magari vanno a rovinare il mercato cioè l'alto il mercato intorno cioè nel senso vanno a alzare talmente tanto le aspettative che poi tutto il resto diventa merda l'aspettative o l'asticella l'asticella sì l'asticella nel senso setta talmente gli standard setta gli standard talmente in alto che poi tutto il resto diventa indie praticamente ma ci può stare in un certo senso no però secondo me è sbagliato però anche l'azienda può fare quello che vuole c'è la fine se ce li ha no ma non è quello non è quello il discorso Liezzer il discorso è che eh cioè allora il fatto è che tipo anche da Elder Ring no c'è stato questo problema per dire no io tipo dopo che ho giocato Elder Ring mi ha settato degli standard talmente in alto che molti altri giochi adesso li vedo però quello sul gameplay e beh ma qui sì e qui puntano probabilmente qui puntano sulla grafica anche molto che lì beh no ma GTA comunque è stato valido in tutto quanto però qui oltre al gameplay anche la grafica che magari molti studi non riescono cioè non possono materialmente permettersi c'è la Real Engine 5 che è già più che buono come grafico a questi momenti quello è vero no ma poi a parte che non è quello il discorso perché appunto il fatto no qui paragona anche Saint Row che non è considerato un tripla da tutti non è considerato un tripla Saint Row però eppure allora io lo considero un tripla come nome del gioco poi se vedi il gioco dico ma però come nome se uno mi dice Saint Row ha avuto un sacco di in realtà no ho avuto tante tante sagge però comunque il discorso è che poi cioè io devo pensarla cioè se devo pensarla qui come dice lui scusa poi ci sono le aziende che sfornano giochi triplave di Ubisoft e di EA e di robe così che spendono un botto di soldi per fare dei giochi da merda quindi scusami io capisco il il punto di vista dell'articolo ma come faccio ad approvarlo cioè è vero che se spendi due miliardi perché ne hai la possibilità spendi due miliardi in un gioco e viene fuori una roba che alza gli standard tantissimo poi gli altri sono nella merda effettivamente cioè a guardarla in maniera realistica saranno nella merda gli altri cioè una per un periodo di tempo però ma magari magari certo non tutti puntano alle stesse cose che che punta GTA quindi no non c'entra Marco no nel senso che non è che per forza devi avere i soldi per fare una cosa figa perché tu puoi avere un però con i soldi puoi fare una cosa figa certo ma nel senso non è che se GTA usa due miliardi io che sto facendo il mio gioco che ne so Okami che è basato anche sullo stile sul tutto non funziona però però fai Okami con due miliardi penso si riferiscono ma siccome quello non li ha se fa un bel gioco la gente lo compra lo stesso secondo me ma non non è un pensiero che puoi fare da un'azienda triplana questo Okami ha un tipo di grafica un tipo di gameplay diverso da GTA penso che si intendano quei giochi simili a GTA quindi un action interno no ma credo intendano sì esatto immaginati un Assassin Creed no ma l'Assassin Creed lo facessero per bene senza bug con una trama figa esatto la gente poi non gliene frega esatto no sì Marco però pensa a GTA Assassin Creed fatto per bene però non con due miliardi quindi comunque anche se è fatto benissimo non è a livello ma c'è un abisso perché due miliardi sono un abisso beh ma secondo me non rovina il mercato però questa cosa cioè chiaramente ti fa dire cacchio GTA guarda quanto è in alto eh appunto se uno vuole comprarsi Assassin's Creed un Assassin's Creed fatto per bene solo compra lo stesso come si compra un gioco fatto con poco basta che abbia tanto cuore se sei in dubbio di comprarlo guardi i giochi magari ti dici sì ma che me lo fa dipendere Assassin's Creed che posso comprarmi GTA 6 ma perché sono due cose diverse quello che ti dà Assassin's Creed non te lo dà GTA nonostante sia fatto un due miliardi eh però però vedi il paragone però vedi il paragone vedi il paragone noti che uno è fatto come i film però un film fatto con poco che però c'è tanto cuore ti può colpire tanto quanto io capisco il tuo pensiero Marco è dello stesso mio però non ha non è non è il cioè io sono del tuo stesso pensiero però non funziona così il mercato cioè quello che dici tu è non funziona come i film no quello che dici tu è sarebbe bello fosse così per me per me è così una persona che vede Ring of Power adesso io ho visto solo i trailer però mi è bastato se uno vende Ring of Power dice ok questo hanno speso tantissimi soldi poi vede faccio un esempio su di me Cobra Kai che è fatto con molto meno che funziona lo stesso io che sono un consumatore io che non c'entra niente la maggior parte no la maggior parte però vede quello meglio ma quello meglio ma dipende perché magari non gli interessa la tematica non gli interessa il game cioè dipende per quello dico che non rovino sì ma quello è un altro discorso però tra uno che è indeciso sicuramente è il discorso che Cobra Kai si riferisce cioè è punta su una fanbase di gente che ha visto Karate Kid beh prendi anche un altro esempio secondo me se una cosa è fatto con cuore e funziona una persona si diverte e ha dell'intrattenimento lo stesso non è che per forza perché esiste qualcosa di in cui hanno speso di più allora deve sentirsi una merda ma non è una questione del consumatore Marco ma sì il fatto di però di alzare scusami però qua alzare l'asticella significa quasi essere in difetto mi sembra una scemenza comunque è quello che dico io però cioè quello che hai cioè quello che è effettivamente la realtà non è così ma dipende perché secondo me ma dipende certe ma i gusti sono gusti per ogni persona no ma anche per le vendite cioè GTA può fare farà sicuramente tante vendite perché poi è un gioco che piace ed è per la massa ma per quello perché GTA può vendere comunque un FIFA nonostante ci sia GTA ma certo ma non è che non vende più nessuno però sicuramente fa un danno sempre più in negativo no no il fatto se esce un tipo un GTA 6 esce Lord of the Fallen capisci che se prima Lord of the Fallen per quanto problematico aveva una sua come dice una sua base di utenza se esce poi lo paragoni con GTA 6 no ma il discorso non è quello il discorso è che se esce un GTA 6 con due miliardi di budget che è un gioco fuori da ogni concezione da ogni scala poi esce un gioco invece c'è il The Ring 2 no per far uscire il The Ring 2 che ha un ha ippi della mano di tutto deve la From questo è un esempio chiaramente però la From siccome nel mercato c'è GTA 6 la From purtroppo è costretta a sentirsi in difetto a far uscire un gioco che non costa adesso è un'esagerazione perché è tantissimo però che non far uscire un gioco che costa due miliardi capito? quindi è un danno per lo sviluppo la diversità nelle cose esiste da sempre ma non così tanto è questo il fatto è come se fosse uscito un gioco è come se se ci fosse la Play 2 siamo in periodo Play 2 ma quello che è successo con le console effettivamente no nel senso c'è la Play 2 ma a una certa la Rockstar fa uscire GTA 5 per la Play 5 no quello che dico io è che è uscita la Playstation 1 che ha portato in avanti il settore e quindi le console più vecchie tipo la Sega così hanno perso piano piano chiaro però qui non si parla di un salto generazionale ma è una questione di budget ma io capisco che poi uno si può sentire in difetto però alla fine a livello di vendite e di ciò che può piacere al pubblico ma non devi pensare al pubblico qui si pensava solo di mercato il pubblico ma io penso anche all'azienda perché l'azienda si incula e basta in ogni caso ok però io la sto vedendo parlando del pubblico la sto vedendo anche per l'azienda cioè se GTA fa un gioco da 2 miliardi e poi esce il The Ring 2 e il The Ring 2 se è fatto bene avrà comunque un sacco di vendite e chi se ne frega ma quello è il mio pensiero cioè se il discorso quello che dici te è comunque in ogni caso cioè sarebbe bene sarebbe bene che le aziende non si preoccupino del mero fare di più ma fare bene quel che può fare cioè se se uno se uno non ha la possibilità di spendere 2 miliardi per un gioco per fare un gioco non dovrebbe essere un problema visto che ci sono indie che costano 100 euro di produzione e sono meglio dei AAA che ne costano 300 mila però non è un discorso che possono fare le grandi aziende ma le grandi aziende non lo possono fare perché il mercato è già tossico perché il mercato è già tossico ma se quell'azienda comunque guadagna un casino perché non può farlo perché non guadagna è un casino Marco a parte Rockstar no ma la From infatti si è cagata ad osso perché è uscito Demon's Souls e aveva una paura fottuta quando è uscito il The Ring perché non era all'altezza però stiamo anche parlando di cose nel senso quando è uscito il The Ring esistevano già giochi come Red Dead Redemption come nel dettaglio anche GTA V ma pensi che Red Dead Redemption non abbia messo degli standard per cui le aziende si sono un po' cacatadosso adesso per dire però che si sono messi un attimo lì a fare eh dobbiamo cazzo lavorare un po' di più perché dobbiamo raggiungere uno standard bello sostanziale non possiamo fare i giochi come l'anno scorso ma sicuramente sì che quello di 2 miliardi di euro di budget dicono cazzo ok che dobbiamo aumentare gli standard però minchia come facciamo 2 miliardi sono troppi però Moro quello che tu dici esiste quello lì ti ha alzato la qualità e va bene come Red Dead Redemption l'ha fatto per altri giochi però gli altri giochi hanno comunque venduto un casino e venderanno un casino ma infatti non è un problema per quello ti dico secondo me anche un discorso per me le aziende eh Marco Assassin's Creed fa cagare perché Assassin's Creed non è mai stato neanche lontano ma negli ultimi anni non ha avuto tanto eh ma perché ma perché puntano perché hanno la mentalità d'azienda perché ci hanno no no ci stanno spendendo un botto e che purtroppo lo spenderci e basta non serve un cazzo eh ma per quello ti dico il fatto che Rockstar faccia un gioco da 2 miliardi non deve cambiare alle aziende che comunque dovrebbero lavorare bene e basta perché se lavorano bene vendono comunque un casino però non è la mentalità del mercato quella ma la mentalità però scusami il mercato va anche in base a quanti soldi guadagni se uno guadagna lo stesso prima facciamo l'esempio di Hollow Knight che non viene nonostante sia un capolavoro per tutti non viene considerato un tripla sì ma comunque è venduto un sacco non è un tripla perché non ha tripla che non sia la produzione va bene secondo me c'è un problema perché c'è un problema che non avevi all'inizio cioè che il modello tripla è un modello insostenibile per le aziende perché guadagnano meno di quello che spendono e se guadagni meno di quello che spendi non puoi neanche permetterti di spendere di più per produrre videogiochi e se non spendi di più hai una qualità minore indubbiamente io trovo che nonostante sia vero che un'azienda si possa cagare esatto non puoi prenderti rischi ci sta che un'azienda si possa cagare di fronte a notizia del genere dall'altra parte dico secondo me non gli cambia un cacchio non rovina nessun mercato no minchia se gli cambia perché GTA è comunque quello se uno vuole giocare alto ma non è GTA il problema metti che fosse stato lo rovina quelli simili tipo appunto Sentro o comunque altri action no ma secondo me non sono la gente lo compra per altro Sentro è sempre stato sottoggiato cioè è chiaro che un Age of Empires di produzione non gliene frega un cazzo di spenderci due miliardi perché avessero la possibilità perché uno che compra Sentro non lo compra per averlo non è quello che lo compra è quello che lo fa Marco quello che lo fa si sente anche un po' in soggezione Marco se senti anche in soggezione ma se poi fa un sacco di soldi no Marco se sentro se sentro è perché faceva cagare Marco perché non avevano budget anche no fa più cagare di quelli prima ma Marco se sentro avesse avuto due miliardi di budget pensi che sarebbe uscito così ma che ne sai perché hanno avuto il budget che hanno avuto e hanno fatto cagare prima sono usciti dei sentro miliardi ma non sai neanche che budget hanno avuto rispetto a prima non puoi neanche dire che fa cagare perché quando lo fanno loro penso che l'abbiano fatto pensando fosse un gioco vale non che facesse cagare ma il problema è quello non che GTA spende due miliardi il problema è che chi c'è stato dietro ha fatto un lavoro di merda eh ma con due miliardi puoi fare un lavoro migliore per quello che ti dico eh ho capito ma puoi avere puoi avere no puoi avere più sicurezza però è un ragionamento sbagliato perché qua stiamo dicendo allora che è tutto basato sui film invece uno se sa lavorare bene lavora bene anche con meno budget se sa lavorare bene si ma se non sai se non sai lavorare bene aver più soldi sicuramente ti fa poi per carità c'è l'esempio lampante di Game Freak ma lì non vogliono lavorare non vogliono spendere i soldi su una cosa però secondo me è sbagliato dire che è tutto sui soldi se hai possibilità di spendere più soldi magari di avere più persone che ti controllano il gioco così sarebbe sicuramente uscito meglio se entrò non lo so Moro magari magari no ma sicuramente perché io la vedo anche le serie della Disney e la Disney eppure fanno cagarissimo in confronto a tante altre sono fatte con 4 euro però sono scelte lì sono scelte beh pensano lì su Disney sono scelte perché loro pensano che quello sia il modo giusto di fare le cose e ma vedi che allora c'entra la mentalità di chi sta dietro il gioco non sempre i soldi avere i soldi ti aiuta e siamo d'accordo tutti sì ma lì è questione di sceneggiatura la sceneggiatura non sono soldi eh vabbè ma se tu prendi uno se entrò è tecnicamente è fatto male che ti fa un videogioco ma è una casa che non sa fare i videogiochi puoi avere due miliardi puoi avere un milione ti farà un gioco che fa cagare perché puoi assumere comunque gente che paghi di più perché hanno più esperienza esatto puoi assumere ma la rockstar è la rockstar comunque hai le sue persone dietro non è che un'altra azienda perché c'ha due cazzo di miliardi guarda che comunque la rockstar continua a assumere perché ha bisogno di gente continua a assumere e pagandoli di più può assumere gente con più esperienza ma poi allora certo che devi essere capace anche di usare il budget chiaramente se dai due miliardi ci va tutti i giorni a mignotta il campo dell'azienda non è che sono usati devono essere naturalmente usati bene ma il problema non è i due miliardi di per sé il fatto è che c'è un gap da di quattro volte tanto un gioco tripla ma comunque si sa quanto ha speso ad esempio perché ha detto che devono vendere due milioni di copie per recuperare la spesa quindi sono circa 120 milioni di dollari per quel gioco è un ventesimo se hai un'idea per un gioco ok la fai e in base ai soldi che hai può uscire più bene o meno bene ma comunque se l'idea è valida esce comunque bene diciamo però il problema è che tutte quelle case triplali devono fare un gioco non dico all'anno ma quasi per andare avanti e quindi le idee per forza sono limitate perché non puoi avere centomila persone che ti danno delle idee ma io io non metto in dubbio che avere soldi significa fare un lavoro migliore quello è ovvio cioè non ve lo devo dire neanche io hai più soldi come una società di calcio però è molto più probabile può comprarsi un giocatore più probabilmente rispettare una squadra però è molto più probabile cioè potenzialmente però uno che c'è i soldi fa qualcosa meglio di uno che non c'è il ma diciamo che potenzialmente però poi vengono però il campionato te lo vince una che ha speso 30 euro vabbè ma quello quello è no ma per quello dico secondo me il mercato non è automatico che venga rovinato no però è molto più è molto più probabile che invece più soldi hai più hai tempo per fare il gioco perché ti puoi permettere di pagare lo stipendio dei lavoratori per più tempo e non hai fretta di far uscire il gioco ma io posso capire che tu mi stai lavorando da 10 anni io infatti capisco il discorso un'altra azienda si può cagare però poi secondo me quell'azienda potrà fare comunque un lavoro incredibile e rifarci il tempo no ma non avete capito poi chiaramente è chiaro che è chiaro che Rockstar se lo merita sì perché i soldi se le fatti non è quello il discorso non è quello il discorso il fatto è chissà se una cosa del genere possa rovinare il mercato partendo dal fatto che secondo me il mercato è già una merda cioè non è non è questa la cosa cioè anche secondo me non è questa la cosa che andrà a rovinare il mercato perché anzi magari può sviluppare può schiurare esatto ma infatti per quello anche io dicevo all'inizio che comunque non sono d'accordo con l'idea di base perché comunque o magari è una svegliata e che è tanto quindi uno magari tipo faccio sempre l'esempio un Ubisoft deve fare il prossimo Assassin's Creed ci mette tutto il suo impegno tutto è felice finalmente sta facendo un gioco di nuovo ai fastidi un tempo in Assassin's Creed gli arriva GTA 6 2 miliardi di baci è il gioco perfetto e cose così loro lì demoralizzatissimi dicono ma è vero ho speso 800 milioni non ce l'ha non l'ha mai fatto nessuno questo merda è verissimo questo e quindi si demoralizzano e devono devono fare di più devono fare per forza di più perché si vedono è un po' la mentalità da milanese in realtà no tutti devono fare tutti di più bisogna fare di più così ed è un po' un veleno per il mercato questo qui che non è cioè il veleno per il mercato è il fatto di dire è quello che dici tu Marco il fatto di dire devo per forza fare di più perché se lui ha speso 2 miliardi anche io devo spendere 2 miliardi non è vero però magari questa cosa potrebbe portarti a usare meglio le risorse che hai speriamo però sappiamo che l'azienda non la pensa così oppure a sfruttare di più quelli che hai già facendoli lavorare di più per avere un prodotto migliore esatto e se la pagano loro questo sarebbe bellissimo però quello non significherebbe usare bene le risorse che hai però Luke sì esattamente quello se le sfrutti di più la persona se tu sfrutti di più le persone nel senso di usare bene quello che hai di sfruttare bene quello che hai e non sfruttarlo di più nel senso che li fai lavorare fare un lavoro certosino ma non vuol dire far schiavizzare le persone guarda Siuk Siuk ha schiavizzato le persone credo Luke intendesse quello non nel senso di farli lavorare oltre le persone quello non sarebbe fare un lavoro certosino però era riferito a fare di più nel senso io quello che dico io magari al posto di dire devo spendere di più dicono noi abbiamo 100 milioni 800 milioni 500 milioni usiamoli al meglio allora io non sono cerchiamo di fare un gioco senza bagno non sarò mai d'accordo Richard sul fatto che soldi diverso da qualità sono d'accordo che è vero però non è ma perché la storia te lo insegna a volte è così ma non è totalmente non è soldi diverso da qualità i soldi ti aiutano a fare delle cose di qualità però però se non se non hai sicuramente non sono in prima posizione per fare una cosa di qualità ecco i soldi ti aiutano per la qualità quello che dico io che secondo me potrebbe essere uno stimolo per fare meglio con quello che si ha non tanto andare sempre più in alto con il budget perché magari un Assassin's Creed che è sempre stato bugato ultimamente sempre c'è sempre qualcosa magari si impegna per evitare i bug anche se il gioco è sulla linea degli altri prendo quello che hai detto tu esattamente adesso Marco però ti cambio una parola nel senso che non è che spero serva non cioè non è spero serva alle aziende a a farsi migliorare no la concorrenza no sempre ti stimola così purtroppo secondo me non sarà così perché il mercato non la pensa così però sarebbe bene fosse così invece più che altro per i bug i soldi aiutano perché non è che tu non è che lo sviluppatore si metta a fare i bug di proposito i bug li trovi come avendo persone che ci giocano che ci giocano su hardware diversi in modi diversi così quindi se tu hai più soldi da investire ti puoi investire di più anche appunto nella fase di testing e quindi il gioco esce migliore anche solo per quello verissimo però Assassin's Creed non mi pare abbia meno budget e bisogna vedere come lo sviluppo li dividono e per quello ti dico che secondo me bisogna anche saper usare quelli che si hanno e non sempre scontato allora sicuramente quindi tu puoi avere sì sicuramente GTA ti mette la caga ma tu mi dici io tanto a 2 miliardi non ci posso arrivare quindi ne ho 500 milioni il problema di Assassin's Creed è l'idea del gioco non è tanto capito il discorso che ti dico è che GTA Ubisoft non ci arriva a 2 miliardi quindi è inutile pensare come Ubisoft come Rockstar perché tanto non ci arriva lì quindi dice con questi soldi devo fare il meglio visto che il meglio non lo stanno facendo negli ultimi anni esatto più soldi più budget hai comunque e puoi permetterti più errori sicuramente infatti avere soldi è sempre comodo se il budget non ce l'hai devi andare sul sicuro quindi fai le cose senza coraggio e quindi fai i giochi ma avere i soldi è comunque una garanzia questo è assodato è che con i soldi puoi rischiare su questo non ci puoi discutere proprio è oggettiva come cosa assolutamente io però dicevo magari però può servire come stimolo per fare dei piccoli Hollow Knight dei ma non sono i giochi che interessano ai compagni di AAA i piccoli Hollow Knight Hollow Knight è un rischio se io devo investire 100 milioni per guadagnarne 150 capisci che non mi interessa che fare il gioco più bello del mondo Hollow Knight è un rischio perché Hollow Knight non è un gioco per tutti mentre se tu non ti puoi permettere rischi devi fare Assassin's Creed che è un gioco che lo giocano tutti esatto i giochi AAA di adesso usiamo Assassin's Creed come se fai bene Assassin's Creed devi spendere almeno più di quello che hai fatto se non hai soldi per rischiare lo devi fare che vada bene alla maggior parte della gente e quindi non ha poi anima quello si però appunto poi non è non è per tutti così però per le aziende AAA quelle grosse fanno tutti i giochi che sono per un po' per tutti perché non possono permettersi di rischiare quello indubbiamente però appunto io guardo se entrò e uno mi dice se entrò ha fatto cagare Immortals faceva schifo faceva schifo però scusami gli altri se entrò gli altri se entrò avevano comunque come paragone la Rockstar ma sono stati giochi divertenti è un gioco per tutti e erano anche altri tempi però c'è anche da tenere in mente quello magari se gli giochi adesso no no Luke non c'entra perché ai tempi c'era GTA 5 comunque e per i tempi era comunque due cose su un livello completamente diverso quindi stiamo parlando della stessa cosa comunque perché ai tempi c'era Saint Road 3rd e Saint Road 2 no Saint Road 2 prima però vabbè che hanno funzionato hanno venduto lo stesso comunque esisteva GTA 4 e GTA 5 quindi il fatto che adesso ci sia GTA 6 ma non era non era un salto non era un salto così importante però era un bel se entrò a GTA 5 non era così tanto sì ma non era così tanto due anni dopo Saint Road 3 come soldi spesi magari no ma come qualità c'era già un qualcosa molto meglio di questi giochi no GTA 5 è uscito due anni dopo Saint Road 3 comunque è uscito anche Centro 4 che è piaciuto meno ma per altri motivi però GTA 4 ha fatto comunque il suo gioco aveva comunque la sua nicchia ma c'era che cari ma anche avessero soldi per rischiare andrebbero comunque sull'usato sicuro no secondo me non è vero ha fatto cacare per le scelte a livello di gameplay eh GTA 4 non per Centro 4 non perché fosse un gioco cioè se entrò di adesso fa cagare perché fa cagare non aveva le stesse problematiche di Centro 4 Centro 4 non è piaciuto perché a livello di gameplay hanno fatto delle scelte che ti andavano a scemare e infatti hanno fatto hanno provato a fare qualcosa di diverso hanno sbagliato sono dovuti andare a riprendere un gioco del vecchio gioco facendolo cioè facendolo con tornare indietro come le meccaniche però hanno risentito sulla qualità per poter fare un gioco al passo si è dovuto rifare non ci sono riusciti non ci sono riusciti vabbè ma lì poi possono essere anche altri motivi non era lì però significa aver sbagliato tutto dal principio eh ma con un budget più elevato magari con un budget più elevato magari avevi possibilità di rimediare a questi errori capito io quello non lo metti però dico dal momento che tanto non li hai questi soldi e lo sai non li avrai quello quello è un discorso che facciamo sempre non vendi più perché c'è no ma non è non vendere più è però essere intimoriti non punti in alto esatto non puntare esatto non puoi più puntare in alto perché devi fare qualcosa di qualitativamente migliore però per fare qualcosa di qualitativamente migliore magari devi andare a risicare da altre parti poi non lo so però sicuramente questo è verissimo però è un qualcosa che esiste su ogni ambito da sempre banalmente anche per noi streamer noi siamo i termosifoni noi abbiamo queste sub quello che possiamo reinvestire per il nostro lavoro è quello perché guadagniamo quello uno zano può investire di più se avessi molti più soldi potrei fare molte più cose certo assolutamente però comunque la qualità che diamo al nostro pubblico può essere comunque di livello per quello che abbiamo perché tanto da zano non ci possiamo arrivare come livello quindi ho una macchina io ho sono la fiat sono la fiat e che devo fare non posso vendere come la lamborghini anche perché la lamborghini c'ha altri è molto di più della lamborghini ma se io voglio arrivare a dire sì a parte che sì perché vende un grande pubblico questo no però appunto nel senso da sempre ci sono strati nel mercato vale anche per i film per le serie tv sì però io rincorro sempre il meglio non è che non è che appunto perché c'è streamer molto più grossi che no spendono i soldi per fare set studi robe così io dico ho il mio faccio il mio no punto cioè vedo loro e dico cazzo vorrei puntare sempre verso quella cosa lì però dal momento che tu ti rendi conto che non hai gli stessi introiti non è che dici vabbè butto via tu cioè comunque cerchi no ma non è non è butti via tutto però cerchi di fare sempre se io sono uno streamer e vedo quello che c'ha lo studio televisivo c'ha gli assistenti c'ha la grafica fatta apposta c'ha il regista c'ha tutta quella gente quella roba lì io lo guardo e dico sì ma io a quel livello non ci arrivo come lo fa fare di spendere magari togliermi 200 euro dal cibo che compro e andare a investire su una telecamera migliore mi tengo la mia web per fare le mie robe e vado avanti così ma lì infatti dipende come vuoi investire e quanto vuoi investire però dall'altra parte non si può neanche smettere di lavorare perché ci sono i big in tutti i reparti però non conviene neanche puntare troppo in alto a quel punto però e vabbè però i giochi sono sempre uguali ritorniamo alla domanda principale come però può rovinare il mercato perché comunque tu avresti un mercato lo stesso così con questo ragionamento che stiamo facendo no ma il mercato sì ce l'è comunque lo stesso però a quelle aziende che devono puntare sempre al massimo i AAA gli si crea un cioè non sono più AAA a quel punto c'è un gap in mezzo tra gli indie e i AAA aumenta la forza cioè esatto a quel punto a quel punto il AAA diventa GTA 6 comunque il AAA diventa GTA 6 e quelli che prima erano AAA vengono declassati a doppia A in questo caso a una A e basta perché contando il budget che va e quindi perdono in 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 appeal però che secondo me comunque sono discorsi che per tu consumatore intelligente no 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 ma certo io non c'entro io apprezzo gli indie e sarebbe bene che lo facessero anche gli sviluppatori poi c'è da dire anche che secondo me il consumatore non sa nemmeno queste cose che stiamo dicendo per quello proprio per quello quindi alla fine vede AAA stas iscritto lo vedrà sempre AAA perché una volta che c'è nel mercato GTA 6 il consumatore normale non sa neanche cosa sia un AAA va a prendere il gioco e se lo gioca una volta che il consumatore standard vede GTA 6 che è fotorealistico sembra la vita vera poi vede il gioco uscito due mesi dopo il nuovo Assassin's Creed incredibile così che però a confronto sembra un gioco di due generazioni prima per dire e poi magari non sarà così però se poi GTA venderà comunque come al solito le altre venderanno come al solito non sta cambiando niente cambia solo un discorso no esempio se GTA vende come al solito è un problema per loro che hanno investito così tanto quindi deve vendere di più ok però questo è il loro progetto però se poi vende come al solito e va bene come al solito ma se va bene come al solito certo non è successo niente però il discorso il discorso è che la paura è che non vendono come al solito ripeto il consumatore medio gioco sia Red Dead Redemption 2 che Far Cry 6 eppure le differenze sono clamorose non credo che Far Cry 6 abbia venduto quanto Red Dead Redemption 2 però ha venduto tanto lo stesso probabilmente ma non quanto Red Dead Redemption 2 ma lì ci possono essere vari fattori non solo la grafica l'ambientazione però quelli che hanno fatto Far Cry 6 magari puntavano a una qualità come Red Dead Redemption 2 visto che quello si però non lo so è che secondo me esiste da talmente tanti anni questa cosa questa cosa qui esiste da sempre ma non così eccessiva il problema qui è che sono i 2 miliardi non sono il doppio sono il quadruplo potenzialmente come un passaggio da PS2 a PS3 o da PS1 a PS2 o da no credo sia più da PS1 a PS3 il passaggio solo parlando del budget poi non credo che quando uscirà cioè secondo me a parte che poi è solo un rumore e tutto ma secondo me quando uscirà se questi 2 miliardi non saranno sul sulla cioè non saranno investiti solo saranno mezzo miliardo sarà la pubblicità il market mezzo miliardo di marketing minchia comunque si GTA lo fa si ma si lo so però un gioco cioè 2 miliardi 500 milioni di di pubblicità di cartelloni ma non credo quello lì credo glielo blocchi l'antitrust non so se è possibile spammare così tanto ma se pagano no se prendi tipo i VIP la titola serve proprio quello esatto magari ti prendi la pubblicità super si puoi prendere cioè ma infatti il discorso che facevo io l'altra volta quando è uscita sta notizia poi io credo che siccome sono un'esagerazione di soldi secondo me saranno investiti per sperperarli nel senso che si prenderanno l'attore più costoso per fare la pubblicità a meno che i 2 miliardi sono inclusi anche eventualmente magari i 10 anni post di supporto al GTA Online ma magari il 2 miliardi sarà il costo totale di tutta la baracca allora il mio discorso infatti lì era il fatto che i 2 miliardi cioè loro ne hanno fatti talmente tanti col 5 che hanno detto ma noi guarda al 6 diamo un budget perché facciamo anche i particole puttane durante lo sviluppo ma tanto perché molti dicevano metti che sarà un flop no la Rockstar può permetterselo perché sa che non è un flop GTA non sarà mai un flop ma gli basta tenere il modello di GTA 5 esatto perché già il Day One venderà un miliardo minimo quando iniziano a vedere che le vendite calano poi a quello successivo basteranno esatto o magari riducono GTA Online magari perché tanto GTA Online sarà supportato almeno 10 anni quello del 6 sicuro quindi probabilmente i 2 miliardi copriranno anche i 10 anni di supporto ma non gli basta scrivere GTA perché se GTA poi esce che fa cagare cinturano brutalmente un po' lo compito cioè almeno non ci perdono tanto però i soldi che hanno fatto con GTA 5 non li hanno fatti per le vendite del gioco all'inizio li hanno fatti tutti gli anni dopo con GTA Online hanno fatto 5 miliardi 6 miliardi con GTA Online effettivamente e 3 miliardi col gioco quello è un altro problema poi quante vendite ha avuto GTA 5 è stato un successo 150 milioni clamoroso però credo che post post 150 milioni anche perché 170 milioni GTA 5 ha venduto in totale 170 milioni di copie Red Dead 45 però all'inizio si sa tipo ma come è possibile scusami che 170 milioni di copie non di guadagno di soldi ah ok scusa no no GTA 5 ha fatto 800 milioni di dollari al day one adesso si sa quanto ha fatto fino ad oggi fai il calcolo 170 milioni non so poi come sono andate le vendite 170 milioni puoi fare per 60 no fai una media di 30 non lo so quanto guadagnano dalla copia però poi c'è anche GTA Online GTA Online hanno detto che hanno fatto 5 miliardi solo con GTA Online ma per quello ti dico secondo me se vuoi vedere quanto hanno guadagnato da tutto GTA 5 probabilmente si va 7-8 miliardi a gennaio 2015 avevano venuto 40 milioni di copie di GTA 5 adesso sono a 170 penso vediamo GTA 5 guadagni totali poi ci sono tutte le microtransazioni online allora GTA 5 aveva quando era 150 milioni di copie quindi 20 milioni meno di adesso aveva guadagnato 6,4 miliardi di dollari è arrivato più a circa adesso siamo a 8 probabilmente si capite che 2 miliardi su 8 guadagnati possono farlo tranquillo ha venduto 20 milioni di copie nel 2020 pensa nel 2020 quando è che è uscito GTA 2013 2013 numeri che fanno girare la testa che poi se dobbiamo pensarla anche per noi io penso che già adesso per la gente la Rockstar gioca un campionato a parte ma infatti di base lo sanno tutti lo sanno tutti un'altra compagna simile che però adesso ha perso non mi ricordo il nome aspetta quante copie hanno venduto nel 2020 20 milioni perché hanno detto che hanno guadagnato quasi un miliardo di dollari nel 2020 però ci sono anche le microtransazioni e tutto appunto considerando che GTA nel 2020 costa metti 20 dollari più o meno sono 20 milioni di copie per 20 fa 400 giusto vuol dire che 600 milioni di dollari sono dal GTA Online sì metà delle copie è tanto sì sì no ma hanno detto che avevano preso un botto da lì nel 2020 che già più o meno era in caso ok che c'era la pandemia però era già fuori da 7 anni no non abbiamo parlato Boss Drago è stato monopolizzato tutto il termogiornale da questo qui anche perché tanto oggi puntavamo a fare una termogionata più lunga perché Marco non è a casa sua e non può giocare quindi almeno anche perché è stato un discorso veramente bello mi è piaciuto un sacco tra l'altro qui c'è scritto quanto è costato GTA 5 quanto è costato sparate una cifra 450 milioni no no io dico 500 voi vi stupirete di quanto è basso ma l'avamo detto l'altra volta non era tipo sono 137 però c'è tutto ci sono tutte le campagne che lo alzano però solo lo sviluppo però svilupparlo è 137 milioni grazie Antonio è poco non è poco però uno milione poraccio lele ma che siamo eh cos'è che hanno venduto 170 milioni di copie però te pensa poi tornando al discorso che faceva per lo sviluppo tornando anche al discorso che faceva Marco te pensa no che con che su Itch c'è gente che senza budget fa dei giochi clamorosi poi lì è il discorso del cuore che tu parlavo prima no lì in realtà il discorso dell'idea però l'idea al cuore non è sostenibile neanche quello perché se non hai idea poi non ci guadagni no ma a parte che infatti no infatti lì lo fanno semplicemente per perché non è perché lo devono fare ma perché gli piace farlo e te pensa se poi un'idea del genere la compra una società qualcosa cioè sarebbe incredibile se queste robe qui sarebbero cioè dovrebbero puntare a fare ste robe le aziende invece di comprare le idee ma non solo le idee ma proprio assumere quello lì che gli dice adesso il tuo gioco lì e ti diamo tutto quanto per farlo ben bene ma se uno comunque sono è limitato anche quello cosa? secondo me se lo puoi dargli tutti i soldi che vuole ma se lo deve fare una persona sola no 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 gli diamo tutti gli strumenti non tutti i soldi cioè ti diamo a disposizione il team di sviluppo robe così ah ok è un bel rischio è un rischio ma infatti è quello il discorso la gente dovrebbe smetterla cioè le aziende grosse dovrebbero smetterla di fare solo perché cioè sono comunque robe a basso budget queste cioè è un rischio ma se è una cosa a basso budget puoi rischiare cioè il fatto è che io capisco che comunque essendo basso budget hai meno paura di cosa puoi andare a perdere dopo no è che se perdi perdi poco perdi sì 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 e l'ha fatto con aperto la sua etichetta di sviluppo di di india da cui è uscito appunto adesso me lo dici luke sparo non mi ricordo i nomi di quelli dai descrivimelo it takes two è quello prima come si chiama è una way out è una way out e ha prodotti i aid tramite l'etichetta per indie diciamo gli ha dato i soldi per fare un gioco che comunque vince diciamo la way out era un indie poi dopo hanno visto che ha avuto successo diciamo che non è più un indie perché gli ha dato i soldi non era un tripla però appunto ci ha puntato perché però vedi io ti parlo per me che non valgo niente quindi è giusto un pur parler io più andiamo avanti più sto notando che prediligo di più lo stile alla bellezza grafica cioè alla bellezza grafica alla ma perché perché non hanno anima perché non è neanche quello perché un gioco può essere anche ultra realistico ed essere bellissimo però se non c'ha anima perché ti ripeto assassin creed gli ultimi sono giochi fatti per la sono giochi fatti per la massa e per forza di cose se fai una cosa per la massa devi spalmare e beh è fortunatamente per la massa GTA però è spalmato tutto e quindi per forza di cose c'ha un pochino quello per quella persona un pochino di quello per quella persona e quindi è tutto insipido è tutto un mappazzone è tutto insipido ma io ti dico però guarda sto valutando anche in base ai miei gusti ti tiro fuori due cose diverse per esempio un nuovo ipotetico Anciartido un nuovo ipotetico The Last of Us che sono due saghe che amo di Naughty Dog che è una casa di cui mi fido e un nuovo Dragon Quest e un nuovo Yakuza il nuovo Dragon Quest e il nuovo Yakuza sono sicuramente indietro a livello tecnico rispetto a un Anciartido a un The Last of Us aspetto di più Dragon Quest e Yakuza nonostante quei due tra quei due c'è anche probabilmente la mia saga preferita aspetto di più gli altri due perché mi posso aspettare una sorpresa un qualcosa a livello stilistico che mi può colpire una colonna sonora un aspetto di più quelli lì o il remake di Dragon Quest c'è un remake cosa ti frega però con tutta la grafica fatta pixelare ma perché lo vedi ma nel senso mi emoziono con queste cose no vabbè ma non è neanche cioè il fatto che a me non frega niente parlavo per me esatto per me è ormai avere una faccia perfetta e una faccia però con uno stile figo ma quello probabilmente quello lì Marco forse non va più non va più neanche ma guarda sta già cambiando l'idea già adesso anche il casual pian piano sta stai dirigendo un'orchestra gli hai zanitato pian piano anche il casual gamer sta andando ma quello lì in realtà è l'industria che si sta appunto con l'uscita degli indie poi non vale niente quello che io parlavo di me non dico che adesso diventerà così stavo parlando di me stai spallendo i gusti tipo adesso aspetto Mario Rabbit come la venuta di Cristo più di tantissimi altri giochi che magari sono più fighi a livello tecnico e più di quello che ti pare però questo è un tuo gusto personale ma infatti ti ho detto che non serviva a nulla ragazzi andate a commentarlo era per dirvi io dove sto arrivando cioè a me non interessa più la faccia perfetta il volto perfetto quanto più un'esperienza di un altro tipo per dire il mio gioco preferito perché già ti dico Elder Ring secondo me gioca più su un qualcosa verso la perfezione tecnica Elder Ring Marco Elder Ring però ha avuto quel problema lì perché Elder Ring per quanto rimanga un giocone della Madonna e tutto si notano molte cose per cui non ha non ha voluto rischiare ci sono un sacco di cosine per cui non ha voluto rischiare se non era sotto un'etichetta che gli doveva che doveva che gli diceva devi far uscire il gioco così 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 sicuramente l'autorialità gli faceva togliere anche quelle piccolezze di di mancato rischio però ci sono altre aziende invece che non hanno problemi a rischiare uno perché non hanno comunque il gioco è un gioco non da perdere sì cioè non è non andranno a perdere più che altro magari sono aziende piccole che non cioè non ci sì esatto non ci perdono niente perché non hanno niente da perdere robe così quindi possono buttarci tutti loro no ma infatti io parlavo poi per me cioè nel senso io proprio mi rendo conto che non me ne frega niente più di queste cose ma in generale io sono sto da una certa età in poi sto cercando qualcosa che mi emozioni e mi stimoli da un altro punto di vista che non sia solo l'avanzamento tecnologico perché quello ci sta e ovviamente se ce l'hai sei avanti rispetto agli altri dicevamo prima però proprio mi un gioco in pixel art con una colonna sonora come si guarda triangle strategy che niente in confronto a tantissimi giochi anche del suo stesso genere ti dà qualcosa che magari gli altri non ti danno perché punta su qualcosa di particolare o una cosa che poteva fare Octopath Traveler che poi non c'è riuscito però come idea poteva farcela non lo so io cerco proprio una ventata diversa perché poi spesso non vale niente molti cercano cioè fanno il gioco mediocre e punto ciao Luca fanno il gioco mediocre non può fare la manacqua adesso come lo scrivi ci hanno il fanno il gioco mediocre ma puntano tutto sull'intortare il consumer che fanno il gioco ok e poi te lo vendono però come se fosse roba incredibile e la gente ci casca perché non so non siamo tutti non siamo tutti noi appassionati di videogiochi che ci accorgiamo delle robe ma c'è quello sicuro è tipo Game Freak sì ma adesso non per tornare non per tornare a parlare di Game Freak però Game Freak ha tanti a tanti di questi tipi c'è da tutti sti problemi Game Freak è proprio l'esempio perfetto Game Freak ha i soldi ma non sta andando avanti né dal punto di vista stilistico artistico né dal punto di vista dell'avanzamento tecnologico che poi non è vero perché sta andando avanti dal punto di vista stilistico rispetto all'ascensore di prima però no è che sta andando avanti sul punto di vista stilistico ma è la chiara persona che dice sì non facciamo quello che sappiamo fare dobbiamo fare di più avete visto gli altri giochi che grafica che hanno dobbiamo anche noi fare di più però non lo sanno fare quindi lo fanno di merda e proprio quello era se avessero continuato a fare quello che sapevano fare ma migliorarlo sarebbe stato ottimo però no ho visto solo il Pokémon Nix ho visto il Diglett nuovo a forma di pisello bianco che spunta dalla sabbia dunque vogliamo passare effettivamente alla rassegnare aspetta l'ultima notizia di Multiplayer Cool & Bones è rimandato per la quinta volta ah già è vero vabbè ma allora ecco questi per esempio stanno andando a perdersi tutte le volte ma smettete ma l'avevano già annullato ma perché l'hanno ripreso in mano quel progetto ragazzi veramente io come posso avere speranze per un gioco che viene rimandato quattro volte che era stato dichiarato fallito l'hanno ripreso in mano cioè io non posso avere speranze o ci spendo 40, 50, 60, 70 io come fai? e loro ci avranno speso svariate decine di milioni anche di più probabilmente è pazzesco come stiano continuando con questa scemenza vabbè bravo donio che saggezza Toto of the Desert vedi il resto Moro è una bella idea quella del seminario ma quello che si vede è terribile e vabbè non l'ho visto non l'ho visto l'anno ho visto solo il Pokémon io faceva il piripiri così allora ma guarda che Game Freak ha delle idee bellissime spesso eh e che poi sono contornate da idee di merda però ha molte idee validissime Game Freak nei giochi Pokémon ha un sacco di belle idee e che purtroppo non riesci a apprezzarle perché tutto il resto è una merda ma ha un sacco di belle idee c'è c'è Marco c'è un piccolo situazione un saluto GG Zangus contro Sea Viper è come ma un sacco di belle idee Game Freak è per quello che è anche un peccato che un brand del genere faccia schifo alla merda comunque c'è Roby che chiede oh Termoraculo a novembre mi rinnoveranno il contratto con il tempo termo iranico è un po' vulgare non lo vuole il contratto con il tempo indeterminato il cielo è terzo ma la minchia di più porca troia hanno rotto lo schermo vieni qui eh comunque dai facciamo questa termorassegna ma ci sta tanto oggi domani le mie palle si si no infatti oggi avevano detto non c'è nulla volevamo allungare il penis si si l'abbiamo fatto la segna stonca non c'è tantissimo poi siete tanti lo stesso e vi stavate prendendo bene quindi sono contento allora dove eravamo arrivati dal Luke si eh wait a minute allora Mathieu van der Poel nei guai un video riprende il ciclista in mutande mentre insegue le ragazzine che lo stavano disturbando la gente è nuda è mutande basta no perché c'era uscito un articolo che sembrava fosse un molestatore poi in realtà leggi bene l'articolo in realtà no si in realtà c'erano questi qui che gli rompevano i coglioni e cos'è è uscito di casa con il basso fuori dalla mia proprietà non forse era alberto si può dare una roba del genere non so se era proprio così il eh si comunque porca miseria comunque amici vi ricordo potete mettere le notizie della segna stonca anche voi e partecipare in prima linea oggi va bene soprattutto voi soprattutto voi noi campiamo su quelli c'è jordan che ha messo una notizia dal titolo curioso oserei dire allora vi dico solo vi dico solo che nell'immagine sotto c'è di maio che al seggio elettorale che fa coso john travolta john travolta il titolo del giornale è la condanna morte dei trombati dei trombati ma rimaniamo solo col titolo perché è bello sì anche perché mi rovina la magia chi è non so ma è palesemente cameron parla di norfolk parla del cellulare mentre guida via la patente al duca di norfolk ridatemala devo organizzare l'incoronazione di re carlo terzo ma non lo accontentano è proprio lui doveva farlo e gli serve la patente forza forza e chiama il taxi non ha l'autista barboom il taxi il signor duca ma ci sono i giorni più pregni e i giorni meno pregni oggi c'erano un po' meno notizione diciamo poi il principe george ha un compagno di classe questa è la voletta attento un giorno mio padre sarà re tu non sai chi sono io ma chi l'ha detto ma l'hanno confermato il principe george ma lui va a scuola con gli altri bambini che balbone probabilmente scuole private ma io pensavo pensavo avessero una situazione ma è brutto tenerli segreti scusa sono segreti in casa non che assolutamente che cacchio pelvico però nella mia mente non so perché erano quelli classici incastrati tra l'altro dicono che george è stato vittima di bullismo ecco perché allora le spavali di suo potere vedo un bambino secondo me volevo vedere quindi non l'hanno scullacciato il figlio di William Kemp ciascuno sarebbe stato bullizzato o ha iniziato a difendersi con argomentazioni che rimandano ma poteva prenderli a pugni scusa ma meglio minacciarli con il fatto che il padre potrebbe essere il re tra poco o comunque il nonno la tua famiglia te la deporto hai capito si potrebbe dire infatti il nonno è già re direttamente può dire mio nonno è re quindi è stata la prima volta che dei reali vanno in una scuola pubica la vedi vabbè 29 anni incinta il medico le diagnostica una mastite ma era un cancro al seno la rabbia di lì ora combatto per la mia vita una mastite ah beh sì ma non è una cosa tipo comune confondere una mastite con cioè l'ho letto più volte se ci hanno fatto l'articolo non così Marco non darei così fiducia ai giornali sinceramente quindi io sono triste quindi chiedo sicuramente è una cosa poco felice però no è una cosa più che altro non è molto da rassegnare sono tristissimo no più che altro è una cosa che ho già sentito più volte per quello dico credo sia abbastanza comune ma quella dopo occhio perché oggi è Franci la eh ma non solo perché anche Vector prima vedevo che erano particolarmente infoiate le pagine del today quindi eh vedi vedi partiamo subito con Monza today Marco Madia ha un contratto di un chilo che sfigato di merda la notizia del giorno a Monza sono tornati gli strani odori eh cosa sono non lo so alcune mattine sembra concime altri odori chimico ma di che ma tra l'altro dove era il posto eh zona quartiere libertà ah strani odori ragazzi incredibile tra l'altro la foto non immagine di repertorio ma potevano prenderne una ha messo l'apocalisse ha messo non credo neanche sia Monza quella roba lì la fine del mondo hanno messo questi questi ciminieroni che sparano del fumo terribile non c'era bisogno secondo me non era così grave non sta esplodendo nulla assolutamente concimano i campi c'è l'industria però c'è da dire chi di Monza ogni volta questo è da anni che è così se passate da San Rocco c'è puzza per colpa del depuratore da anni non si può sistemare quella lì proprio non è veramente un fetore tra l'altro c'era un mio amico che abitava San Rocco mi ha detto che lui dopo un po' si era abituato non sentiva più nulla perché ormai era assuefatto completamente da questo odore però se ci passate che arrivate dall'aria pulita è veramente state annusando un culo sporco è veramente qualcosa di terrificante San Rocco però auto della locale insegue un Audi si schianta ma non importa se sono vecchie anche se sono dieci anni fa se sono curioso io le voglio io sarebbe meglio un point però è proprio una notizia divertentissima chiaro che se una un inseguimento era banale già cinque anni fa se me la rimetti adesso non è che diventa bello però se sono curiosissimo e le fai vedere anche adesso io sono sempre curioso auto della locale insegue un Audi si schianta con una Ferrari e si ribalta questa è effettivamente una baubonata questo no questo una nutria spasso per il centro di Milano questo è allora allora io voglio capire perché ogni tanto scrivono in centro a Milano poi vai a vedere ed è estrema periferia che infatti volevo vedere buongiorno Corso Vercelli stammattina intorno alle ore 8.30 in Corso Vercelli all'altezza del cinema per scuola vale veramente la nutria in foto non so da dove si è uscita ma penso dei tombini è abbastanza in centro Corso Vercelli scusa immagino questo che fa la telefonata ma scusate ma è di qualcuno questa nutria c'è una nutria chi ha perso questa nutria ci sono due foto eh beh la nutria non so se sono dire per top no 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 è quella ma anche l'avessero messa voglio dire è un cazzo di topo gigante la nutria fa schifo Arianna la nutria è brutta ma sembra un castoro sembra un castoro termo per le pette eh? Moro la prossima notizia finalmente è il termogiornale oh andiamo a vedere è il termonudes allora la termorepubblica aspetta che è il banner la is si schianta al suolo Gesù Sforetti una scena vergognosa Gesù Sforetti che tra l'altro è stata una coincidenza incredibile perché ieri la Cristo Sforetti è diventata capo esatto esatto me lo ha fatto schiantare finisce ancora prima di iniziare l'avventura da comandante della IS della minifigure Samantha Gesù Sforetti la stazione è stata vittima di un incidente senza precedenti a causa dell'incremento della forza di realità terrestre dotto al superamento delle 1800 sub la stazione spaziale è stata attratta dalla terra non riuscendo ad evitare l'impatto con il suolo grazie hai steso l'abbonamento regalato da Cisco c'è anche la piccola clip a parte che non c'è un aspetta manca un Liezar qui scusatemi finifico il commento dell'astronauta Jesus Sforetti spiega bene la delusione che scena vergognosa non è esplosa in mille pezzi e non ha fatto nemmeno rumore mi sento scammata l'esperto prova a dare una spiegazione ai fan che si sono sentiti truffati probabilmente l'asciugamanno posto accuratamente nella zona dello schianto ha evitato la distruzione del set Lego oltre al proprietario che ha evitato di passare il pomeriggio a raccogliare i pezzi solo un fan è rimasto contento il meraviglioso utente Nicola Yu che è anche autore della notizia certo certo riceverà infatti il set a casa sua all'indirizzo via caciocavallo 69 Ancona Italy non credo sia da Ancona grazie a Liezar tvb c'è scritto in piccolo e qui vediamo Liezar ai piedi tra l'altro vedo che c'è un nuovo contratto pubblicitario nella termore pubblica dove? sopra quello delle 69 fotocamere e fatti un selfie con il termosiphone che palle moroli tutto da boomer era nuovo non c'era non me lo ricordo bello complimenti al semenzario comunque ora proseguiamo con Quartum dimmi dimmi l'unione sarda crazy non lo sappiamo ma penso di sì credo di sì penso proprio di sì ma Hyper ha regalato la sabba a Ciscon ah no ha steso l'abbonamento di Ciscon evade dai domiciliari Ruba in farmacia viene arrestato e torna ai domiciliari voleva stare a domiciliare una breve storia strizza però era era ancora a domiciliare tutto in neanche 24 ore poi l'uomo che spacca un'auto da 50.000 euro con una borraccia come è possibile ma come ma c'è il video ma quanto ci vuole prendi di metallo gli sfondo tutti i finestrini sta facendo esattamente quello vabbè grazie albergo grazie mille albergo ma la gente non sta bene comunque a Milano e sottolineo a Milano il museum of dreamers il museo in cui prendere a pugni le cose e non solo sta diventando strana a Milano ragazzi comunque puoi prendere ma poi la foto hanno scritto la piscina del museo ma non credo sia di Milano comunque penso che sia una cosa itinerante come lo so sì ma mi hanno fatto vedere la foto l'unica cosa che non serve a nulla no no dico strana strana non la fanno a Fermignano per carità mentre uno prendeva pugni qualcosa dedicato ai sognatori che spiegano gli organi trasformò l'onirico in realtà le aspirazioni in ispirazione le aspirazioni in ispirazione di spazi in piattaforme per sognare proseguono i curatori un percorso di emozionale di 15 installazioni immersive che vi invita a realizzare i vostri sogni e inseguire le vostre passioni uno spazio per condividere i propri desideri e vincere le proprie paure ma non c'entra prendere a pugni ma non c'entra niente in prendere a pugni penso che un'installazione sia prendere a pugni come sotto c'è un'altalena c'è l'altalena circondata da questo cielo sono tutte queste cose è un'esperienza è un'esperienza ragazzi è un titolo completamente un'esperienza milanese 18 euro un po' d'antino però ci può stare è un'esperienza poi a milano grazie Ivan io non posso aprire l'armanaco di Luke comunque in nessun modo l'ho già aperto io quindi lo faccio io ok entra in chiesa e urla il nome dell'ex moglie fedeli attoniti arrivano i poliziotti ma e magari si chiamava porca moglie si mi sembra una cura eh mi sembra una cura poi pantaloni troppo provocanti non gli piace come veste la figlia ed ha un pugno alla moglie ma perché ma perché ma cosa scusami ma cosa vuol dire questa cosa è Peter Griffin cosa succede si magari è un po' più ha vestito lei la figlia di nove anni perché la figlia ha nove anni quindi l'ha vestita la moglie quindi ce l'ha con la moglie ma sì ma questo qua è giusto cioè nel senso è giusto il prendersela con il chi ha fatto non con chi è con la bambina non aveva senso poi che sia che sia ingiusto che sia troppo il pugno però almeno se l'è presa con la causa e non con la conseguenza perché di questi tempi prendersela come la conseguenza è grazie Valkyria c'è un oracolo io sono veramente putrefanto allora un oracolo che chiede il chaff otto un oracolo come andrà il mio esame di domani mi sconsenta ecco qua è giusto il fatto di poi che non è giusto picchiare è un altro discorso no infatti ma non era giusto un sacco di cose perché vedendo quello che succede poteva tranquillamente picchiare la bambina vedendo la gente come reagisce ultimamente infatti poi sessualizzare una bambina cioè allora è sbagliato picchiare una donna cioè una qualsiasi persona in generale però ti defenestro vai fuori di casa e non ti fai vedere mai più perché hai vestito di merda mia figlia se lo meritava ma secondo me no scusami ma non c'è bisogno si può risolvere in altri modi secondo me cacciando di casa la donna che non capisce niente ma non è quello il punto cioè il punto è che al massimo cioè una bambina può essere vestita male per andare a scuola magari non è console perché sessualizzare una bambina di nove anni vai fuori di casa per favore e lo ha vesto io con la tuta dell'adidas no ma la sessualizzazione non l'ha fatta la mamma l'ha fatta il papà in questo caso no l'ha fatta la madre no perché se tu sei il papà che ha sessualizzato la bambina dicendo sei provocante così non la mamma quindi è il papà che ha sessualizzato la bambina non la mamma è la madre che l'ha vestita provocante ma appunto tu dicendo che è provocante la stai sessualizzando non la mamma che la veste allora dipende la sessualizzata è il padre non la mamma allora sì bisogna vedere quanto effettivamente non è la mamma che sessualizza è una bambina sei tu che dicendo provocante la stai sessualizzando chiaro però il fatto è che allora per come l'ho pensata io era effettivamente vestita un po' troppo perché bisogna vedere effettivamente quanto è ma Massimo non è consona per andare a scuola bisogna vedere noi ci dicevano mettetevi cose che consona alla scuola però si si no il padre ho capito ho capito ho capito ho visto il padre che chiaramente ha detto è provocante quindi è lui che sessualizza e che io l'ho vista esagerata nel senso che la madre effettivamente l'ha vestita da mignotta ma non fece con le calzerete no non lo so non credo abbia vestito con le calzerete secondo me gli avrà messo una gonnellina qualcosa del genere magari il papà si è incazzato perché ho troglodita secondo me al massimo è la scuola poi che mi dice guarda secondo me se metti la minigonna alla bambina di nove anni non sei un troglodita a pensare che non capisci niente però dai è una cazzi bambina e vabbè una bambina ce l'ha le minigonne per andare a scuola questo è il discorso che fece il mio professore alle medie che sai le pantaloni nei corti allora ti devono ma non è alle medie nove anni ma si ma comunque non va bene non va bene ragazzi al massimo è la scuola che ti dice guarda a scuola mettetevi il grembiolino i pantaloni quel che l'è ma non di sicuro ma perché a scuola devi avere magari un certo decoro per la scuola non lo so poi anche lì ci sono dei casi limite però sicuramente non puoi dire una bambina sessualizzata allora le bambine che fanno le sfilate di moda a cinque anni in America ma ci sono le bambine che ballano quelle lì sono diventate tutte serial killer sono diventate comunque è un discorso delle palle non puoi sessualizzare una bambina in generale anche perché non è che ti fanno il vestito porno per le bambine ai negozi sono vestiti normali sei tu no ma per carità per determinate occasioni però boh per me è un po' cioè una bambina non c'ha non ha la cioè non è lei a decidere né niente quindi fino a una certa età farei di tutto per renderla il più come dire e non so come mettere come parola ma non c'è ma non c'è un deco c'è c'è una bambina qualsiasi cosa gli metti è una bambina non puoi essere sessualizzata per me è proprio un discorso che non ha senso per me poi ti ripeto può esserci un decoro nel senso non gli metti la maglia vediamo sessualizzata da molto prima ma eh no si ok ma è come c'è anche come un bambino vestirlo tutto c'è lo stesso discorso di vestire un bambino con Gucci no tutti i capi firmati un bambino piccolo eh con tutti i capi firmati Gucci e robe così per me è una cosa che non devi fare vabbè ma quello è un altro discorso qua si parla di sessualizzare sessualizzare tu stai sessualizzando una bambina e non va bene non va bene cioè dicendo e che io me la sono e che io me la sono immaginata e che io me la sono immaginata molto più grave la situazione di come l'avete immaginata voi forse eh non è ma non è il fatto che non è entrata in pubertà è che cioè la stai vestendo da cioè non è neanche la stai vestendo da adulta e vabbè ma al massimo dici che non è decoroso per andare a scuola e vabbè allora ok non puoi dire hai vestito da porca la figlia da nove anni perché c'ha una gonna no vabbè ma non la pensavo da quel punto di vista lì ma io parlavo anche per quello di controglodita del cacchio ma magari magari sì magari sì però no perché io non la pensavo da quel punto di vista lì cioè la pensavo proprio dal punto di vista lì che perché ho visto molti casi di genitori grazie charlie che grazie charlie ho visto un sacco di di casi in cui i genitori grazie charlie prendono le figlie e le devono far diventare qualcosa no quindi le le plasmano in modo come appunto l'esempio che avevamo fatto prima delle gare di bellezza delle bambine in america che per me quella roba lì però dici eh vabbè è una bambina ma la stai vestendo come un'adulta cioè non lo so non lo so il mio cervello dice è strana quella cosa lì ma quello poi può essere un'altra piaga ma non tanto per la sessualizzazione o per vestirla da adulta secondo me è proprio perché stai mettendo una bambina già magari che può avere dei complessi fisici già da piccolo eccetera quello secondo me si verte su un altro discorso però non sul fatto della sessualizzazione cioè secondo me lì magari può essere dannoso per quanto riguarda la sua crescita perché si fa complessi perché magari si paragona le sue amiche ma se metti una gonnellina una bambina no è vero cioè spiegata come l'avete spiegata a voi ha senso è che io quando ho letto la notizia nella mia testa mi sono immaginato che effettivamente l'ha vestita da prostituta la bambina poi a pensarci a leggerla qui dice un paio di pantaloni a suddine troppo stretti no ok ok ma infatti poi a leggerla vi do ragione vi do ragione ma anche se anche volendo come fai a vestirla da una prostituta e li metti la mandi a scuola con i tacchi le 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 capito il problema è che esisto la la minigonna quella raso face e robe così che che sembra un un adulto in miniatura poi no è quello che fa senso io l'avevo concepita così si ma non se è una minigonna e robe così no non sono ingenui ragazzi sono do ragioni a voi ragazzi sono bambini oh oh sentite ci sono sono bambini eh ma ma stiamo parlando che ingenui cioè una bambina se tu ci vedi del sesso o vedi un in una minigonna vedi una prostituta in una bambina c'hai problemi mentali secondo me c'hai problemi mentali eh ma c'ha ragione Luke cioè tu devi pensare anche a quello che c'è ma come la gente la guarda sono malate le persone ma appunto eh ma non voglio mandare mia figlia tu manderesti la figlia in giro così ma perché ma se la gente è malata è un pensiero eh ma a che caso mando la gente la figlia è in mezzo alla gente malata così ma la tutte ma no ma la gente ma se fossimo se fossimo in un mondo io non ci sto ragazzi io non ci sto io non ci sto io non ci sto è un problema se una bambina viene guardata male a nove anni perché ha una gomma no ma in questo in questo in questo discorso qui eh ma il mondo in cui viviamo purtroppo è questo se fossimo in un mondo ideale io non posso avere paura che un uomo mi guarda la figlia che c'ha la gonnellina ma stiamo scherzando eh eppure no ma non esiste ma non posso ma sì ma io non mi faccio non cambio un vestitino normale di mia figlia perché un uomo lo vede sessualizzato ma andasse a cagare scusami eh certo è colpa per come ci vestiamo noi se succedono determinate cose no no non è non è è certo però io non mi fido di mandare mia figlia in mezzo a sti malati scusami eh vabbè ma tu non la stai mandando conciata male è una gonna normale no allora questo qui sì questo qui sì ma io sto dicendo i casi in cui ci sono bambini e robe del genere che le madri le vestono per sembrare delle adulte ma quello ma è quello per i concorsi eccetera ma secondo me è un discorso delle pali siccome ci sono gli uomini pervertiti non devo mettere una gonna di là mia figlia io non sono d'accordo non sono d'accordo no ma tu ma tu Ari tu Ari sei adulta e sai anche i rischi che corri ma non deve rischi non sono rischi se mette una minigonna perché c'è un uomo di merda non sono rischi sì che sono rischi no non sono rischi perché l'uomo deve stare fermo non dovrebbero non dovrebbero essere rischi però lo sono no io non cioè io io purtroppo io non c'è no no ma quello ma infatti su questo ragionamento l'avevo detto io l'avevo interpretato in maniera sbagliata sono d'accordo con voi che un cazzo di paio di jeans è una bambina non è mandarla in mezzo alle strade cioè nel senso qui sono d'accordo io stavo pensando stavo pensando a un caso limite secondo me dire a una ragazza sai i rischi che corri se ti metti la minigonna per me è fuori da ogni logica no è perché purtroppo viviamo in un mondo di merda se fosse il mondo ideale non ci sarebbe questo problema e direi io stesso ci mancherebbe ma non è no ma infatti ti stuprano ti guardano anche se sei vestita la donna ma infatti non è capito è un problema che poi va risolto in qualche modo però noi non è che possiamo vietarci le cose fin da quando abbiamo sei anni perché ci sono le persone malate ma poi ripeto se c'è un uomo che vede una gonnellina di una bambina in maniera sessualizzante quell'uomo lo mandi a passicolare perché tanto non va in giro solo una bambina no io non sto perpetrando quello lì io sto dicendo che tu adulta devi fare quello che vuoi purtroppo però sai i rischi che ci sono perché la gente è malata in giro non ho detto che non devi farlo perché la gente è malata però purtroppo la realtà dei fatti è che in giro la gente è malata ma da sola non la mandi Lele da sola non è da sola ma sono dei bambini sono gli insegnanti non succederà niente purtroppo ci sono notizie che non è che non succede niente ci sono ma infatti questo episodio è una bambina dai è come dire che nel mondo in cui viviamo adesso tutte le donne non si sentono in pericolo perché non perché no è come dire che una donna non si può mettere la minigonna perché sennò la stuprano moro è la stessa cosa no no il discorso che state facendo non è questo non è questo Marco no nel senso che passa quel messaggio lì no non è quello il discorso è che purtroppo però non deve non deve aver paura di però purtroppo mi cago se comunque la caga ce l'ho perché so in che mondo di merda viviamo il discorso è quello eh ho capito ma che fai no non sono due cose diverse cioè non ci posso io vi assicuro che è la stessa cosa sentire queste cose è come dire se l'è cercata perché se ci sono persone che fanno schifo noi non è che possiamo vivere no non sto ma chiaro che moro non sta dicendo quello chiaro che moro non lo sta dicendo ci mancherebbe ma neanche gli Ezra io stavo dicendo in generale è una mentalità sbagliata però cioè una mentalità che è proprio sbagliata è chiaro che moro non lo sta dicendo ci mancherebbe noi siamo in pericolo anche con un maglione e jeans sono stata infastita più volte vestita di merda con le zine di fuori quindi il tuo discorso mancoregge cioè io io trovo perché siccome ne sento di parecchi anche di una persona completamente vestita copertissima dalla testa i piedi dobbiamo smetterla di assecondare queste cose se una bambina ha una minigon ha una piccola gonnellina ha una magliettina è una bambina e non va sessualizzata non bisogna dire non la mandi con la gonnellina è una gonnellina per una bambina una gonnellina ma Marco devo ripetermi di nuovo ma no ma se c'è un insegnatore niente a scuola che fa queste cose io non posso no il mio discorso era riguardo riguardo questa cosa qui vi do ragione perché l'avevo interpretata in maniera diversa perché io ho visto bambine effettivamente vestite da adulte che per me non ha senso come cosa perché una bambina non ha capacità di intendere di volere e quindi non devi nove anni a scuola ho capito ma se è Marco perché è un rossetto è una bambina è un rossetto ma perché una bambina è un rossetto di solito perché la stai plasmando è quello che non va bene infatti io avevo interpretato ma perché inizialmente non lo voglio una bambina il rossetto gli da fastidio cioè è una cosa non da bambina invece un vestito è un vestito ma Marco io ho i jeans da bambino col cazzo che li volevo appunto ma quello è una cosa tua però il rossetto è un rossetto cioè il rossetto magari gli può dar fastidio a scuola si impastrocchia cioè una bambina il rossetto è anche problematico ma una gonnellina un pantaloncino ma chi se ne frega una bambina quelle bambine lì si comportano in quella maniera perché sono già state sessualizzate sì ma non è che sono state cioè sì è proprio il fatto che sono state plasmate stai privando della libertà di una persona però purtroppo che con l'uomo non succederebbe con un bambino non succederebbe ma un bambino secondo me appunto un bambino non sarebbe sessualizzato se si veste da adulto gli direbbero sei vestito da adulto la bambina invece è vestita da è provocante io non sono un padre a chi ha le guarda il fatto è che secondo me il bambino se si mette una giacca non è adulto non è da secondo me non è sessualizzato il bambino no non è sessualizzato però infatti il discorso poi verge da un altro punto di vista cioè il discorso è secondo me il bambino va cresciuto in maniera molto eh normale tra virgolette nel senso molto basic nel senso non devi mettergli in testa determinate cose come quello del sessualizzare anche infatti ho detto se li metti a minigonna è ok però il fatto è che il mio punto di vista era non farli sembrare non dei bambini e beh però per me cioè io proprio io ragazzi a me queste cose mi mandano fuori ai matti vi giuro a me vestire un bambino da adulto per me non è una cosa che bisogna fare ragazzi sarà la mia cazzo di idea ma vestire un bambino da adulto sarà sempre un bambino ma stai stai plasmando la mente di un bambino no Arianna sto parlando di un'altra cosa non della cazzo di gonna sto parlando di bambini che vengono vestiti tutti gucci con le scarpe gucci robe così oppure delle bambine che vengono vestite truccate con il rossetto tutto quanto così perché i genitori devono plasmarli come vogliono loro non va fatto un bambino secondo me poi che cazzo vi devo dire per me un bambino deve essere cresciuto da bambino in questo caso dovrebbero fare in modo che la gente non è in pericolo ma siccome lo è quello che ha la gonna l'ho capito io l'ho detto infatti che l'articolo l'avevo malinterpretato esagerandolo quello che dice l'articolo è quello che dirò io sono d'accordo su quello che una minigonna non ne è freancazzo una bambina cioè come vedi una bambina al mare con solo il pezzo sotto perché una piccola bambina non ha raggiunto la pubertà né niente non è che ti ecciti per le tette della bambina non ce le ha neanche anche se la vedi completamente nuda che gli fa far la pipì nel mare la madre non è che ti viene in mente se non sei malato il pensiero di il mio discorso era una cosa perché avevo malinterpretato l'articolo esagerandolo ci mancherebbe ma infatti no ma te Moro non ha messo minimamente in dubbio che stessi parlando ci mancherebbe io parlavo del fatto che appunto sessualizzare una bambina perché ha una gonna dicendogli è provocante è sbagliato ma le bambine è sbagliato Arianna anche io da piccolo è sbagliato ho una foto dove mi mettevo il rossetto me lo sono messo in tutta la faccia perché vedi certe cose ti vuoi emularle però un conto lo fa il bambino la bambina per giocare un conto è quando glielo fa il genitore è quello il discorso il discorso dell'articolo non puoi dire a una bambina sei provocante in nessun modo mi dispiace cioè non puoi dirgli sei provocante è sbagliato sei proprio sbagliato tu che guardi con quegli occhi poi se si parla a scuola si va in maniera decorosa quello è un altro discorso assolutamente ripeto ma poi prima si parlava del rossetto è un problema per un bambino a scuola perché ti sporchi tutto è che il genitore il genitore deve secondo me il bambino deve lasciarlo bambino cioè a me a me quando mi faceva adesso era un po' una mezza stronzata però che cacchio ne so tipo i miei cuginetti quando c'era tipo un matrimonio o robe del genere che per l'occasione per l'occasione per l'occasione i miei cuginetti i genitori li avevano vestiti no con la camicetta i jeans e le scarpine fiche no per carità quella è un'occasione quindi chi se ne frega però un bambino io da piccolo mette io fino al avanti nell'elementari se mi mettevi jeans lo odiavo cioè non li volevo i jeans era la roba più scomoda del mondo perché dovrei volere i jeans e quindi ma no i crowd i crowd no allora i crowd tanto le possono un sacco e non potrebbero violentare lo stesso è quello il problema è quello il problema anche io ho paura quando vado in giro da sola e non metto per forza una minigonna ma questo non giustifica cioè il fatto è che tu qua stai dicendo aiutano se vanno in giro nude no ma anche se vanno vestite non aiuta perché le stuprano lo stesso le violentano lo stesso io le odiavo la magica fantastica lo stesso quindi stiamo parlando del nulla ragazzi se una donna va in giro nuda o con la minigonna o con un maglione accollato fino qua troverà un probabilmente se c'è un malato che gli dà su anche in quel modo quindi non è questione di nuda non è questione di minigonna non è questione di reggiseno di calzarete di no perché se sei in maglione ti fischiano lo stesso se sei con i jeans lunghi ti fischiano lo stesso quindi non si può dare una colpa alle persone io ho smesso di andare a correre perché mi fischiavano e mi suonavano ero sudata vestita come una deficiente ma questo non ha smesso purtroppo ragazzi non c'entra niente il vestito cioè proprio ti fischiano comunque è uguale è uguale è uguale così e lo dite perché chi ne parla così è perché non ha avuto esperienze dirette con sua sorella sua mamma o non è una donna perché se sei una donna o hai avuto persone di fianco a te a parte che ormai basta essere persone a momenti non c'è più bisogno neanche di essere donna però capite che pensa pensa che la situazione si sta risolvendo nel senso che adesso non vengono più molestate solo le donne tutti no non è come fa a essere come fa a diventare una cosa del genere cioè come facciamo a stare andando verso questa direzione scusate io come non me lo spiego come si fa poi c'è da dire però ragazzi invece di risolversi al di là di questo discorso c'è da dire anche che se una ragazza poi per sua scelta personale dice io non me la metto la minigonna perché voglio evitare anche quel un po' di probabilità di sua spontanea volontà però è una scelta sua dice io non voglio evitare perché voglio evitare ma ci sta anche quel ragionamento ci mancherebbe altro però ragazzi non cadete dal pero fidatevi quello che dice Cassaprullo che se ti vesti con il se ti vesti col maglione e i jeans ti potrebbero fischiare lo stesso quello che dice Cassaprullo è il discorso non è educare a vestirsi in un certo modo ma educare la gente a comportarsi in un certo modo quello lì è il discorso di base chiaramente però quello che dico io è che non non la fate facile ragazzi non la fate facile non è perché si ha la gonna o è scollata perché purtroppo si parla delle donne perché purtroppo succede più con le donne se sono anche accollatissime o con dei pantaloni lunghi non cambia nulla fanno catcalling alle quindicenne che escono dalle scuole medie dal liceo ma l'altro giorno l'altro giorno sono vestite normalissime l'altro giorno allora io quando vado in giro le donne le guardo per carità però non è che mi metto lì fantozzi però il fatto il fatto no io in realtà guardo tutte le guardo le persone in generale in realtà non è che guardo perché sono curioso però l'altro giorno eravamo al supermercato io sono cose di cui non me ne accorgo perché non sono indeterminati cioè non sono io in determinate situazioni però tipo eravamo al supermercato al centro commerciale camminavamo per andare dentro il supermercato e c'era c'è la crisi accorta di un tizio che che si è girato per guardare il culo di una ragazzina che aveva 15 anni poi allora finché lo guardi e basta ma guarda fosse fosse solo quello chi se ne frega guarda anche se però lì per lì cioè ti fa un po' schifo cioè vedi questo qui che c'era avuto 40 anni così che si gira per guardare il culo della ragazzina capisci che nel mondo c'è un problema poi fossero tutti come lui che guardano e basta si potrebbe forse anche chiudere un occhio c'è un ragionamento da fare mister non va bene comunque non bisogna cioè ho capito il discorso del rolex nei bassi fondi per carità di dio però stiamo parlando di delle persone che si stanno vestendo a volte normalmente una maglietta un pantalone anche il rolex ma no ma non puoi in realtà sì vabbè ma chiaro che esiste la criminalità però tu stai privando cioè a volte e se quando succede che sono vestite così succede lo stesso se si mettono a minigonna il problema il problema è che non c'è bisogno di andare nei bassi fondi per questa cosa qui il problema è quello perché perché se se vado nel Bronx vestito tutto di di bling bling ice ice non dovrebbe succedere niente in un mondo ideale però cazzo lì cioè tu lo sai che lì proprio un po' il fatto che questa cosa qui invece succede ovunque il problema è quello purtroppo sì purtroppo sì però non dovrebbe non dovrebbe succedere neanche questo qui nello specifico cioè io dovrei essere libero anche di andare con rolex nel nel Bronx però già lì è una cosa un pochino più specifica circoscritta ed esagerata ma il discorso era semplicemente quello non sessualizzate non date la colpa come sovvestite perché non è così perché poi una si può vestire per carità a parte che secondo me una se va in giro nuda poi dovrebbe cioè lì poi secondo me è una questione proprio di come si dice di atti osceni cioè non atti osceni come si dice però vai in giro nuda o nudo quello fa cacare nessuno ti dà il diritto di prenderla di prenderle e stuprarla però chiamo la polizia e e però mi cioè vedo una donna nuda bellissima in centro che passa non lo so in realtà se mi ecciterebbe perché essendo una cosa molto strana forse mi preoccuperei mi preoccuperei prima di eccitarmi in realtà esatto però di base se vedo una donna nuda un pochino normale che mi eccito però il fatto è che se la vedo in contesti a parte a parte che infatti gatto cioè poi c'è il discorso io quando vedo una donna con il toppino con la panza di fuori con la panza di fuori la prima cosa ogni volta che la vedo in giro tipo son con la Cree vedo una ragazza con la panza di fuori e dico ho già il cagotto purtroppo quello è il mio primo pensiero di solito in piena estate no 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 anche in piena estate comunque comunque non è che non è il cagotto subito cioè io capisco da cosa arriva la frase però se sai che ci sono queste persone magari copriti un po' di più capisco che possa arrivare nel cervello questa cosa perché dici se sei più coperto hai meno probabilità che quello li guardi zone sessualizzate però in realtà non è così ragazzi quello che sto cercando di far capire che poi a me piace io non sono donna ma ho avuto a me eccitano a me eccitano un sacco è successo anche con Franci eccitano un sacco le donne in pigiama cioè il fatto è che lo fanno quindi dipende no ma perché il fatto è che quindi sistemiamoci il pene e basta sicuramente a una fetta di persone eccita la minigonna a una fetta di persone eccita il pigiama ci sono fette di persone per ogni cosa quindi però Mauro vedi che vedi che allora abbiamo ragione cioè il discorso è che comunque io ti ho dato sempre ragione il discorso prima è che avevo malinterpretato l'articolo non ti ho mai messo in dubbio avevo malinterpretato l'articolo cioè sono d'accordo su quello che dite voi se non chiederebbe mi sarò anche spiegato male all'inizio mi impunto su alcuni commenti che ci sono ancora adesso che è però se ti metti la minigonna lo sai ma non va bene ragazzi facciamoci un esame di coscienza ai piselli non dobbiamo sempre dire però non vestirti non fare noi pensiamo a noi e il pisello dentro tu poi Irene ci sono anche i contesti il pudore tutte le altre cose poi vedranno loro con il loro pudore cioè insomma cioè se vado in uno strip club mi eccito se vado alle poste mi preoccupo se c'è una persona nuda il discorso è quello il problema è che non bisogna dire però che siccome la minigonna cioè no voi tenetevi il pisello ben stretto nelle mutande e ma magari anche non troppo stretto che voglio dire certo potrebbe far male però cioè il discorso è che comunque se c'è questo problema bisogna andare dall'altra parte non dalla persona che si veste in un certo modo perché ripeto tanto le fischiano con le minigonne senza minigonne nel senso con i pantaloni con i maglioni a collo alto con i giubbotti vestite da scuola cioè le fischiano sempre quindi il problema non sta in loro ma nei merdoni che non riescono a tenere buono il pisello poi io ti posso dire Simone ma è un argomento infinito e anche reiterato ci sono varie sfumature poi ripeto poi ognuno si vede col suo pudore cioè poi una ragazza non lo vuole fare per pudore suo per non seri di altri problemi ma è liberissima di fare quello che vuole però dobbiamo stare dobbiamo capire che c'è un problema nella società non in chi si veste così eh esatto vada ma lo so a proposito di capotti enormi ma io non capisco adesso cioè siamo andati appunto al centro commerciale tra l'altro siamo entrati in qualche negozio di vestite non mi ricordo era Bershka mi pare e c'erano un sacco di ste ragazzine zoomerissime bro yeah e tu devi provarsi questi piumini grossi così ma che problemi avete scusatemi eh come fate a essere eeeh cosa vuol dire andare in giro vestiti in questo modo eh vedi balli come fate a essere delle persone dentro quegli i glue magari stanno candidissime no perché sono sono quei bomberini sono veramente tanto imbottiti però sono ti passa l'aria da ovunque perché sono semplicemente gonfi come fa essere un outfit alla moda una roba del genere che poi ti vedi di queste persone con questi stuzzicadenti al posto delle gambe e sopra sono enormissime giganti ma come può essere una persona così ma io non mi mettevo direttamente giubbotto qui ma come si può essere una persona del genere cioè immaginati è sprit ma sopra c'ha questo giganterrimo giubbottone eh perché sprit è secco e vedevo in giro da Bershka noi che guardavamo le magliette quelle nerd no ci sono di One Piece Marco un botto di magliette di One Piece e poi c'erano queste ragazzine che provavano in tipos questi giubbotti giganti ma scusami ma come fai ma per favore vai a vestirti ben bene e poi c'è la Cree che si è comprata gli ho regalato per il compleanno che tra l'altro oggi è il suo compleanno pensa ho regalato il giacchettino il giacchettino di pelle alla Buffy anni 90 perché gli zoomer stanno cercando di copiare tutto quanto non credo siano mai passati di moda i giubbotti di pelle no però in questo no il giubbotto di pelle di base no però questo qui un pochino lungo così alla ammazzavampiri alla 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 ma 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 tu ti avevano il giubbotto di pelle Marco no non così tanto lungo però è tipo infatti gli zoomer che cercano di copiare tutte le nostre mode poi ci danno dei boomer ma in realtà si vestono come noi veramente ma abbiamo chiudiamo l'argomento tanto abbiamo capito anche in chat infatti siamo passati ai giubbotti siamo passati il discorso è che comunque in qualsiasi modo si veste sarà in pericolo il problema bisogna rieducare la società fine la risposta è rieducare la società non c'è altro verso c'è bisogno di rieducare la società basta dare il peso di questo cambiamento alle persone che si vestono in un certo modo perché è un problema della società è così ma lo dicono anche psicologi cioè non è che lo dico solo io ma adesso Marco con la Meloni vedrai che andrà tutto bene non lo so vediamo non credo ce l'ho rossa la giacca in pelle presa a Valencia in un negozio di usato che volevo comprare che schifo come fai a comprare i vestiti nel negozio di usato io ammiro le persone che lo fanno comunque io non ce la farei mai li lavi ma non è possibile non è possibile c'è sempre la loro essenza magari era proprio un criminale non è vero D'Ogliano non sono un criminale ciao Daniel comunque è chiaro che nessuno si di parenti si però lo stupro stavo cercando di eravate in chat eravate semplicemente cerchiamo di non dare la colpa all'altro ma capire che c'è un problema nella società e va risolto nella società perché non si può sempre dire e soprattutto i bambini sono bambini quindi infatti è solo una mia cosa di testa basta letteralmente ecco non mi comprerei delle mutande usate però in Giappone impazziscono per queste cose in realtà che impazziscono anche lì è comunque una cosa molto borderline è che lo fanno tutti però comunque in realtà si basta lavarle però è una mia cosa mentale che mutande e scarpe perché le scarpe comunque hanno la forma del piede della persona che è indossata non lo so cioè forse le troverei scomode in ogni caso però la possibilità negli uomini non la società beh è chiaro l'uomo è quello che succede nella maggior parte di famiglia grazie è una cosa che è una cosa oggettiva succede di più con gli uomini quindi sì è una cosa oggettiva vabbè ma elettronica usata non te la metti addosso questo non vuol dire che non ci siano anche episodi di donne che l'hanno fatto agli uomini però bisogna essere anche di capire un attimino essere realistici ehi rene non ne ho la certezza mica te la danno che la strappano di dosso da una persona sudata e cagata non ne ho la certezza grazie baffo l'elettronica usata non la puoi lavare come un vestito ok però puoi pulire infatti è una cosa solo di test vabbè andiamo avanti con le notizie bello bello tutto bello tutto beh sono argomenti interessanti sempre sempre i pirla sempre infatti questa qui la mettiamo su Spotify Podcast questa puntata allora questa qui è vero vero verissimo chiede di sposare in fretta un uomo a cui stanno amputando una mano ma i carabinieri scoprono tutto voglio sapere no a cui stanno amputando una mano chiede di sposare in fretta un uomo a cui stanno amputando la mano eh quindi mentre cioè per dargli l'anello no voleva sposarlo in fretta perché c'erano soldi in ballo semplicemente e cosa c'entra l'amputazione era una circostanza un titolo di merda semplicemente non è mi ha chiesto la mano letteralmente mi ha veramente confuso questa notizia l'ho rimprovera per le troppe bestemmie anziano preso a pugno e cinghiate da un ragazzino ecco per esempio qua secondo me dovremmo organizzare un gruppetto però queste sono le mie idee un po' per picchiare il ragazzino secondo me secondo me ecco quando dicevo di ridurre la società due legne se le sarebbe meritate riduchiamo la società secondo me due pugni nel mulo proprio così sarebbero andati però bestemmiava bestemmiava il ragazzino bestemmiava il ragazzino il vecchio gli ha detto basta testa di merda diarrea cosmica e il bambino ha detto guarda tu lo sai con ghiaia che fare bro io sono maranza e l'ha preso a pugni al vecchio che schifo classic maranza notice notizie dall'estero di pasqui vai con solo barrato e quindi forse non sono tutte notizie dall'estero è arrivato l'autunno il che significa che il tempo del latte è al gusto di zucca delle torte di mele e della gonorrea e della gonorrea benissimo affiancata alla torta di mele e al latte al gusto di zucca in realtà il titolo dice solo gonorrea tutto il resto non lo dice e quindi pasqui dove l'ha letto scusate è forse nell'articolo it's fall which means it's time for gonorrea in realtà poi specificano gonorrea herpes genitale e sifilide molto bene tra l'altro gli è zanamuta sì 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 no mi riconfondo forse scusate è un altro simone bene comunque aspetta non le devo aprire che non riesco a leggere l'inglese una donna del nord caroline avrebbe inviato il suo curriculum a nike in modo particolare ovvero stampandolo su una torta per esempio c'è la foto della torta con sopra la cialda quella che c'è sopra è letteralmente il curriculum tutto stampato beh vedi però dai può essere una più che altro c'è la nike non credo ci sia mandagli una scarpa mandagli no esatto è una cosa è una bellissima idea se fosse stato un curriculum per un'azienda che fa una pasticceria esatto purtroppo a nike non credo gliene sbatta molto però è carina buono il suo curriculum non credo l'abbia fatta lei allora potrebbe però adesso facendo una piccola parentesi non nel caso 100% però potrebbe essere considerata corruzione una cosa del genere se fosse una cosa se neri facci sapere se fosse una cosa di cioè un posto di cucina e la torta l'avesse fatta lei probabilmente sì secondo me secondo me no perché stai no no in un posto di cucina proprio no perché stai facendo vedere le tue capacità magari ma in realtà stai bypassando la co non lo so eh non è cioè non stai bypassando niente stai facendo vedere quello che sei fare è proprio curriculum proprio perfetto quello mentre qua già può essere più corruzione perché ti sto dando ti regalo una torta assumimi non è non è lì invece magari la puoi usare per sto facendo vedere le mie capacità capito perché tu lo fai in un contesto giusto però ma alla Nike io mando la torta col curriculum potrebbe magari potrebbero esserci gli estremi per una cosa di corruzione non lo so chiedo eh però non credo non credo non credo sia vista come corruzione perché al massimo ti prendono per il culo sì ma non credo che nessuno seriamente dica ci ha mandato una torta questa è da denunciare sta provando a corromperci e valli così serio ligio il fatto che forse facendolo risultare come corruzione potrebbero vincere forse sì sì è quello forse sì cioè se lui denuncia però perché è uno fiscale estremamente ma è una torta eh però sai allora intanto d'oglia chiede grazie bockerim mi faccio mi faccio la pasta o mi mangio la frittata avanzata sempre non darmi fastidio che poi urlo e scorreggio è d'oglia smettila quindi scorreggi la frittata può fare più secondo me la pasta dovresti mangiare comunque per colpa di si manifesta solo nel rapporto con pubblici ufficiali qui non ce ne sono sono rapporti tra privati ah quindi il quindi io un privato posso pagarlo per farmi assumere è comunque una cosa una bella domanda cioè non si chiama la coluzione ma è una bella domanda perché effettivamente se non è io non sono un pubblico ufficiale se Moro mi dà 50 euro perché perché forse poi nascono le cose tipo eh te lo assumi poi ti inculi fa cagare esatto il fatto è che forse non avrebbe senso quindi non può essere definita come corruzione perché non non puoi avvalorare il fatto che lo stavi facendo per un tornaconto visto che non è nessuno no perché appunto magari dopo cioè non ci fai un cazzo cioè non è che cioè nel senso se lui tu mi dai 50 euro io non sono un pubblico ufficiale e non posso non puoi non posso provare non posso provare ah ok è un altro reato ma non è corruzione magari non è un reato ma è solo da multa io non ho nulla da provare alla legge per dire che tu me li stai dando per corrompermi perché io non sono un pubblico ufficiale però rientra no non credo sia quello ma non è che perché non c'è un pubblico ufficiale quindi non lo puoi provare semplicemente ha un altro nome perché c'è un'altra cosa però non lo so una torta non si confuga come reato quindi chissene però io come lo provo Moro in tribunale mandi le foto di che cosa della torta per esempio io devo fare che ne so quella non c'entra niente Marco ti stai impelagando in un altro discorso non è quello le prove ci sono tutte mi ha mandato la torta faccio le foto alla torta e poi le faccio vedere a chi di doveva in questo caso sì sì assolutamente non c'entra niente no non c'entra niente esatto è intortare proprio letteralmente intortare poi per colpa di un uragano due partite amichevoli sono saltate per la squadra di Carolina Hurricanes no è che c'era poca ciccia oggi scusate no fari idea perché Carolina Hurricanes tra l'altro sì c'è stato ieri un uragano ho visto le immagini credo ci sia ancora adesso magari non so se in Florida è bello pesante sì non da record non da record però a me faceva specie il fatto che le precipitazioni di quell'uragano è colossale gigante un uragano che prende tutta la Florida ragazzi le precipitazioni in tutta la Florida siano quelle che ci sono state settimana scorsa nelle Marche che quello è stato paragonato in un uragano quello che c'è sì però in un posto piccolissimo ma no ma che c'entra lì fanno in lì vengono paragonate in metro cubo quindi qualunque cioè può essere stesso quanto vuoi ma la quantità di pioggia è quella perché mi è calcolata al metro cubo no credo sia proprio il tutto non credo proprio che tutto quello che ha usato giù un uragano sia lo no quello l'urgano lì ma non è vabbè ma guarda che non so se ha fatto particolari danni bestiali poi non lo so si sa che tutto quello che è negli Stati Uniti è più grande sì però il fatto è che è tutto distribuito per quello non ha si di solito si misura in millimetri al suolo oppure in litri al metro cubo in millimetri al suolo è l'altezza che rimane al suolo esatto no fanno a millimetri al metro cubo no la misura in millimetri al suolo però quella è quella che rimane possono essere entrambe le misure in realtà però no quella lì è quella che rimane al suolo ed è lo stesso che è rimasto di là è un cancolo complessivo cioè praticamente ha piovuto in tutta la florida quello che ha piovuto nelle marche settimana scorsa era quello la roba che faceva ma è morto Julio chi è? il rapper non conosco hanno trovato morto a Los Angeles è in chat sapranno sicuro ma che storia che poi si effettivamente funziona comunque la pioggia in millimetri d'acqua su metro quadro su metro cubo però in tutta la florida è piovuto la stessa però tutto quello della florida è piovuto nelle marche si gangster parla non lo conosco ragazzi mamma mia mamma mia jazzer come stai lo conoscono tutti ma non non lo conoscono in spianza non so poi no l'hanno trovato non ho letto il titolo c'è si è trovato morto in casa c'è trovato morto in realtà a Los Angeles è scritto quindi non ho approfondito guardate voi adesso sono qua mcdonald's introdurrà dal 3 ottobre almeno nel mercato USA un epimil per adulti giochino incluso non in quel senso subito fare battute nessuno l'aveva pensato nessuno il pacchetto in sé non si chiamerà epimil ma cactus plant flea market che fastidio ma mettine uno pratico come epimil cos'è cactus plant flea market ma metti una sigla che fastidio scusa cos'è questa cosa lunghissima il continentore e il regalino sono stati creati possibilmente per ricordare l'aspetto dell'epimil subito e sessualizzare i panini è un nome veramente di diarrea che nome è ma fai una sigla un altro nome più facile ma scusate ma che schifo c'è la foto? sì la voglio guardare anch'io che schifo ma perché hanno tutti quattro occhi? è orribile è terrificante ma cos'è questa cosa? Moro ti spiego grazie Vector dimmi plant flea market è un brand di streetwear che come logo ha lo smile con quattro occhi eh quindi è una cosa in collab che ha i quattro occhi e lo smile fatta in collaborazione con McDonald's questa è la storia ma se è anche cioè questo smile con quattro occhi è anche tutto storto fatto di merda? no questo è fatto di merda perché non sanno fare un cazzo quindi ok è proprio fatto di merda sì sì c'è questa piccola allora scusatemi McDonald's dei miei coglioni eh McDonald's taglia delle palle eh 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 chiamate al telefono itermosifoni.com e facciamo una collab con il termovisione a questo punto dai ma sì ma possiamo fare i pupetti i pupetti i pupetti del termoverse tipo il trenino Marco il sole il la regina Mario Malato la regina forse no la regina a parte che non è del termoverse la regina ma impareranno ad apprezzarle i termosifonzi che è anche bello un pupazzettino che fa ok ci può stare dai fighissimo i pupetti era un mix tra pupetti e pupazzi non sapevo meri è stata bannata probabilmente chiamiamo il telefono .com vedi che è stupida è proprio considera una link anche scritto così ok vabbè comunque sarebbero incredibili no Mario Merola non è del termo ma come la regina non è del termo la regina non è del termo sì esatto non sono poi continuiamo notizie al contrario ciao Vector grazie dell'interventazione che poi non è sbagliato anche il titolo cosa era il titolo quella dopo ah ok notizie al contrario 100% foto dei carabinieri free cosa vuol dire io quella prima notizia ce l'avevo addirittura su TG.com allora leggila pure Marco allora Google gli accredita per sbaglio 250.000 dollari lui non riesce a restituirli non è vero perché semplicemente per due settimane non gli hanno risposto poi gli hanno risposto ha detto se adesso provvediamo esattamente quindi quindi il titolo di TG.com anche quando non parla credo sia quello notizie al contrario proprio per quello perché non è vero niente di quello che c'è scritto poi gli ha ricevuti gli ha scritto gentilmente è letteralmente il contrario poi elezioni manifesti funebri per candidato Puglia vado avanti fammi aprire che mi sa che non l'ho capita questo allora c'è effettivamente un manifesto funebre con elezioni politiche 2022 la croce qui estinto giace il furibondo a jace a battaicchio requiescati in pace quello che dicevano anche in Assassin's Creed eh sì manifesti funebri per candidato va bene però è come avevano fatto la campagna elettorale con i manifesti Moro a parte che non sai dirlo tu ti ricordi i mondiali 2006 in Italia fecero i manifesti funebri alla Francia è più o meno la stessa cosa fecero qui giace con la Francia 2006 va bene più o meno la stessa cosa però la sintassi del titolo non l'ho capita comunque vabbè spose inteso che perde ovviamente sì spose scappano senza pagare il conto del banchetto di nozze non ci hanno portato le costolette ma è sempre quella dell'altra volta che non avevano avvisato non me lo ricordo no non credo vabbè ti arresto ti butto in gattabuia e ti spacco la faccia e via cazzo non mi avete portato le costolette chiami dici non mi avete portato le costolette testa di cazzo la gente che non parla scusate quella di Hamilton mi sapete leggi un attimo Moro allora fammi leggere Marco Formula 1 Lewis Hamilton a caccia della prima vittoria a letto presumo che non ha perché non ha figli e quindi ah quindi deve fare sesso quindi perché bel titolo quindi quindi fare figlio è la vittoria se no se fai sesso e ti diverti e basta magari l'ha detto lui magari cerca un figlio per raggiungere il livello di prestazioni richiesto siamo implacabili nell'esplorare ha comprato tutte le possibili ottimizzazioni incluso il sonno si parla di sonno 2.000 sterline parla proprio di riposo si parla ah non di sesso quindi è proprio messa male è un letto che controlla la frequenza cardiaca non è messa male frequenza cardiaca respirazione i movimenti regolano la temperatura corporea e premoniare il sonno beh hanno voluto fare la notizia che verte sicuramente ma molto bene molto bene Luisa ti auguriamo tanti sonni non mettete le notizie di Tgcom no e leggo e leggo quindi magari poi Marco tenetela per dopo no no questa non si legge questa non si legge però comunque anche se non è quella che devo dire io di lord bollette alle stelle e termosifoni spenti l'avevamo già letta 19 gradi in casa fa bene fa anche dimagrire l'avevamo già letta questa forse si l'aveva non me la ricordo ma di un po' di tempo fa sì una o due settimane fa è fatti del 5 settembre bello quel signore sì molto felice è stato recuperato un esemplare di Gamecube utilizzato per testare i primissimi giochi per Wii include la primissima versione alfabeta del menu che verrà utilizzato su Wii è molto probabile che questo Gamecube sia stato usato per mostrare i primi giochi per Wii all'E3 del 2006 beh è un bel pezzone allora bello figo un bel pezzone un bel come si dice un bel oggetto eh sì è unico poi Cinesi Generico mette una notizia non ci mette molte informazioni 13 Panda Cubs make debut in Sichuan e lui commenta a me sembrano morti grazie Cinese con la sua sintassi breve vabbè semplicemente credo c'è questa foto di questi Panda su questo palchetto cuccioli che probabilmente perché vengono messi dentro questa riserva non lo so il commento di Cinese che dice a me sembrano morti i Panda sono le persone più pigre del mondo quindi ci sta che sono morti proseguiamo Sangavino appare la scritta vagina in un campo è un'opera d'arte il video gli alieni arrafati ragazzi non ci si salva neanche non ci si salva neanche dall'esterno del pianeta mi fa ridere anche il titolo sotto cerchi nel grano no una grande scritta vagina poi questa è la voletta vabbè la notizia del cazzo anche questa infatti la messa d'oglia Giorgia Meloni la madre contro il retto di cittadinanza perché viene usato per i videogiochi vabbè ma tu non capendo niente di moda come fai a dire che Hamilton è vestito di merda magari ha la grande moda solo che tu sei il solito pirla e non lo sai come ci si veste come anch'io cosa cerchi nel grano vagina era da leggere così una grande battuta moro sì perché lo dice chiunque ma le prove chi sono questi chiunque la maggioranza del popolo tutti giudicano allora io volevo dire a doglia che è un demente innanzitutto però questa notizia era anche su multiplayer l'abbiamo bypassata io e l'Ezza ma l'abbiamo già la geletta tra l'altro che poi in realtà come al solito il titolo dice una cosa e poi l'articolo dice un'altra o quasi però come al solito siamo sempre lì beh il concetto è quello semplicemente specificava che poi i ragazzi stanno a casa a uziare anziché a cercare un lavoro ho letto l'intervista beh il concetto sì quello ma lo sapeva si sapeva già non è che l'ha detto adesso non è che l'ha detto adesso l'ha detto durante la campagna ma poi l'ha detto la mamma della Meloni che è la boomer dei boomer quindi va bene così se mi vestissi come Hamilton mi vestirei di merda vediamo e non sfidiamo il cariffato no no ragazzi meglio evitare assolutamente ma la rassegna no l'almanacco Liezar vai tu con l'almanacco aspetta non mi schiamarei il compleanno non mi ha scritto ok eccola mancano 86 giorni allora oggi è il 272esimo giorno dell'anno mancano ma l'hai fatto alle 3 del mattino non Luke vabbè ma lo sai che Luke mancano 86 giorni a Natale 31 giorni ad Halloween poi 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 il santi del giorno è Santi Michele Gabriele e Raffaele Santi Licheri quasi Michele Gabriele e Raffaele Santi Michele Santi Michele dove? c'è l'arcangelo Michele l'arcangelo Santi Licheri eh ma Santi Licheri ma che cazzo dici? assolanza assolanza non siamo a Lucca no non saremo a Lucca purtroppo San Gabriele il protettore di Postini ambasciatori giornalari corrieri giornalari corrieri filatelici non so cosa sia radio e televisione e telecomunicazione mi piace che tutti più o meno correlati tranne l'ambasciatore San Raffaele il protettore di Ceti adolescenti e viaggi e San Michele il santo patrono della polizia di stato infatti era santo quando c'era l'ente poi ci sono c'è il santo l'arico di Eim San Siedeln Moro con cosa stai giocando scusa poi c'è San Ciriaco Eremita è un passacavi è quello da attaccare San Teotichio di Marmara San Fraterno di Oxer e San Giovanni da Ducla da Ducla tutti i vescovi o Francesca e devi specificarlo è importantissimo tanto c'è tutti i vescovi tanto c'è Meri che mi ha passato Cullio sul gruppo dei Sabe per per rendermi partecipe ti ringrazio oggi è il mio onomatico per due santi diversi ostia hai il doppio nome tipo Michele Raffaello Gabriele Raffaello Gaffaele secondo me poi infatti del giorno nel 1963 prende in via in Gran Bretagna il primo tour del gruppo rock dei Rolling Stones attenzione nelle 73 per decisione del governo italiano aumenta i prezzi dei carburanti sale di 23 lire passando da 162 a 135 al litro nel 73 nel 79 si sposa Martin Scorsese con Isabella Rossellini sì eh sì sì nel 95 nel 95 in un documento il presidente statunitense Bill Clinton parla di una zona da molti conosciuta come R51 è la prima volta che è commercializzata quando? nel 95 è la prima volta che ufficialmente gli Stati Uniti ammettono che ce l'ha nel 95 e dentro c'è? non l'hanno specificato penso glielo facevano come domanda tra bocchetto per farlo parlare ma dentro cosa c'è? scusa no dentro abbiamo i nostri alieni che fanno le nostre cose sì sì che fanno il pane nel 1902 apre il primo teatro a Broadway beh è una giornata piena di cose importanti e nel 96 la Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 ma guarda che è una giornata piena di avvenimenti incredibili i Rolling Stones che hanno iniziato a fare sesso i Mario non l'ha mai fatto guarda guarda qua sono nati oggi Michelangelo non spoilerarmi un cantante italiano per favore sono nati oggi Michelangelo nel 1571 poi nel 1841 è nato il signor Heineken ah della birra nel 1901 è nato Enrico Fermi molto famoso quello della Marco del freno Fermi bravo nel 1936 è nato o signor Silvio Berlusconi grande sì nel 1950 Loretta Goggi sì era questa la cantante? no no ah ok quello sotto sì sì nel 1951 il signor Bersani anche lui politico 1976 il signor Henry Shevchenko è un grande ma scusa Berlusconi Shevchenko è il stesso giorno questo me lo ricordo un sacco di gente è nata nello stesso giorno il Milan storico poi proverbio del giorno senza denari non si canta messa questo è abbastanza l'ho mai sentita in vita mia io l'ho già sentita poi poi e scusa perché Luke mi ha scritto l'uva diventa dolce poi a un certo punto c'è scritto l'uva diventa dolce ma è dolce gastronomicamente magari diventa un dolce però non mi ha specificato quando è dolce non un dolce sì non so non saprei cercavo di dargli un'interpretazione ma non saprei ma tu non diceva anche viva la fisseria mi sembra la fisseria sì sì la fisseria allora oggi è la giornata internazionale della sensibilizzazione sul cibo perso e sprecato importante giornata mondiale del cuore questo sensibilizzare sui problemi eccetera eccetera giornata mondiale dei marinai il giorno di confucio poi queste sono invece quelle nazionali giornata nazionale del ricordo della polizia in Australia giornata nazionale del caffè negli Stati Uniti giornata nazionale di Starbucks giustamente sempre negli Stati Uniti giornata nazionale dei film muti Stati Uniti giornata nazionale dei biscotti Stati Uniti sono grandi gli Stati Uniti bravi biscotti caffè tutto collegato giornata internazionale dell'Eppy Goose Felice Occa inizialmente la festività si chiamava in altro modo e celebrava l'arcangelo Michele esatto poi è stata associata alle ocche perché la data coincideva con il giorno dell'affitto nell'Inghilterra medievale le ocche erano un metodo comune di pagamento e molte città li pagavano padroni di casa col delle ocche ma che storia ma poi le ocche sono terribili povere occhi direi che è finito il proverbio del giorno senza denari non si canta senza denari non si canta in chiesa era proprio il discorso di prima dei soldi delle robe passiamo alla rassegna ecco perché mi ha scritto l'uva diventa dolce perché il proverbio di settembre per San Michele l'uva è come il miele con la rima pure San Michele miele non c'era però nella frase San Michele San Michele era quello che lo diceva non è che diceva San Michele e poi diceva le cose il proverbio si chiama così per San Michele l'uva è come il miele non era quindi proprio San Michele una cheat non è una cheat l'uva diventa l'uva è come il miele no non era una cheat pure per la giornata per la giornata di San Michele l'uva è come il miele cioè puoi usare l'uva al posto del miele ma noi cosa mangiamo? sti cazzi chist marco chist mangia mi farò questa buffata tocca a marco la segna a buba marco grazie non c'era l'uva mi ha fatto il petone allora ho aperto anche un qualcosa di gossip perché forse possiamo trovare delle cose interessanti allora Francesco Totti allora ovviamente c'è la notizia di Francesco Totti o di Larry Blasi intanto aspetta posso ricordare alle persone che fino a domani avete la possibilità di regalare delle sub col 25% di sconto bravo ricordarlo sì ma anche perché potete subare con uno sconto tra l'altro a me io avevo disattivato delle sub perché appunto volevo poi farle volevo fare i sei mesi mi sono scadute tutti questi giorni tutte le sub adesso ieri sera dovevo fare una sub dovevo fare una sub di sei mesi ieri sera non andava un cazzo non mi dava tutti i problemi ero lì merda metti che non va per i prossimi due giorni quando cazzo perdo lo sconto mi cago addosso invece fortunatamente dopo è ritornato app twitch ben bene e potete fare il giveaway che finisce domani sera tra l'altro e sono riuscito a farlo fate il giveaway mi raccomando quindi se fate la sub fatela per sei mesi ragazzi che è un risparmio dovete fare la pagamento sì è un risparmio della madonna io l'ho fatto tutte da sei mesi sto mese così è stato bene è risparmio due mesi tranquillo prego Marco dicevi no allora c'è la notizia di Totti anche oggi che però è molto simile a quella di ieri con la stessa foto ma hanno cambiato delle cose quindi secondo me qui ci sono dei problemi comunque Francesco Totti compleanno con noi mi bocchi che è la stessa notizia di ieri solo che hanno aggiunto bacio davanti a tutti e hanno specificato che era in un locale romano con un gruppo ristretto di amici e ci sono pure i figli questo l'hanno messo ma di chi? degli amici ah di Totti di Totti ma non degli amici quindi mi sembra la notizia di ieri a me però modificata un pochettino è la remaster sì della notizia poi abbiamo Ambrangiolini beccata con Francesco Scianna che regala la sub a Cioc grazie 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 Ambrangiolini beccata con Francesco Scianna nuovo amore dopo Max Allegri l'attrice paparazzata a mano nella mano con l'attore a spasso nella notte romana Allegri l'allenatore sì era con Allegri se ti ricordi qualche giorno fa c'era stata anche la notizia che di un suo sfratto perché aveva preso casa con Allegri vabbè un altro discorso buono non è attento non mi prende sul serio questo è giornalismo d'assalto non prendo mai sul serio la rassegna buba Marco sarebbe strano al contrario se mi permetti no infatti 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 è così poi abbiamo Grande Fratello Vip non ho capito Elettra Lamborghini contro Ginevra ti avevo detto di non parlare di me ma non è al Grande Fratello Elettra Lamborghini probabilmente era ospite magari ah no magari questa qui l'ha sparlato Ginevra è la sorella di Elettra Lamborghini l'ha sparlato ok ti avevo detto di non parlare di me la cantante di Pem Pem dice la sua dopo le dichiarazioni dell'inquirina della casa ok è proprio la cantante di Pem Pem la cantante di Pem Pem va bene poi abbiamo ah il momento è a Marcord aspetta no prima voglio leggere delle notizie di gossip ah scusa mi hai detto del compleanno ah no è la Marcord è la Marcord abbiamo Aurora Ramazzotti incinta confessa Aurora Ramazzotti chi è? Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti incinta confessa Ormoni a palla piango per qualsiasi cosa questa non è una notizia è incinta è incinta Alessia Marcuzzi affronta il divorzio buttandosi sul palestra e lavoro e c'è un'immagine di lei che fa in palestra va bene e poi abbiamo il pancione di Bianca Azei ormai è esploso ti sento dentro di me ogni giorno sempre più forte allora a parte che una notizia mi ha fatto ridere per altri motivi però cosa vuol dire è esploso è grosso è grosso si ma è incinta e si dice è incinta si dice va bene comunque un salutone a Bianca Azei poi vabbè la frase dopo è un pochino ambigua però va bene così andiamo col momento mi pare mi pare si scriva così aspetta eh mi pare si scriva così era lei? chi è? no non era questa Bianca Azei non era non era il nome suo non è indiana non è indiana neanche iraniana oh Senera ha regalato cinque cozze grazie cinque cozze grazie bella grazie mille ha regalato il ginocchio no però non è troppo cioè quasi quasi non credo che poteva essere elaborata meglio questa battuta credo sia un gioco di parole però beh sì credo sia inferito il ginio però un po' pecca un po' di impegno quel nome quasi diciamo quasi niente pisellone a Irene tanto non lo vuole non credo Mirko spero di nonne poi abbiamo i due momenti a Marcord auguri Raph rivediamo la super classifica show 1989 grazie Polienti l'entereftalato grazie Polienti non aggiungerò il successo di self control poi abbiamo anche Gianna Nannini che canta l'attillover il pisello d'oro ragazzi la cantante senese sfoggia un particolare taglio di capelli anni 80 cantante senere addirittura come? come? non l'avevo letto prima non mi sono perso ripeti? no perché mi parlate queste sono le mie notizie scusami Marco hai ragione Gianna Nannini canta l'attillover a popcorn è qua tutto a posto la cantante senese sfoggia un particolare taglio di capelli anni 80 il mullet ma non l'avevo letto prima che fastidio è meglio anni 80 ma Gianna vergognati vergognati stai meglio adesso cos'era questa merda poi guarda che schifo cos'è questa schifezza questo topo cos'è? Gianna adesso è molto meglio dobbiamo aggiungere le buba d'oro no perché il pisello d'oro non è niente di sessuale ragazzi quindi no il pisello d'oro vabbè era pisello inteso come no il pisellon il cazzone proprio sì no non è proprio però non è da guardare mostracela amare in modo sessuale sembra ovviamente pure un pochino liquido non è ho fatto di cercare di spoilerarmi one piece google basta ho finito abbiamo finito ma ormai fare grounded è un po' tardi ma il compleanno non l'hai detto era affera l'hai detto? sì ma scusami ma questi non mi ascoltano la mia nascenda non ascoltano me le dici troppo veloce ma non è vero che parlavate tutti Marco è che veramente sono cose talmente poco interessanti che fa ridere per quello però la mia soglia dell'attenzione va rafforzata è un casino durante la rassegna buba capisci? però Marco che schifo vai ma c'è anche un compleanno un quarto d'ora di Grounded ragazzi ma no non so un compleanno importante c'è un compleanno di Gwyneth Paltrow che fa 50 anni ma no basta basta sono tre giorni per vedere se vi ricordate non era ieri era l'altro ieri che l'aveva letta ieri ma che era già ieri per errore esatto hanno veramente talmente pochi articoli che tengono qua notizie di quattro giorni prima cioè incredibile sì questa è la mia sì ormai famosa solo per la sua candela al gusto di fica quindi è durata un giorno non ricordate ogni volta che viene fuori Gwyneth Paltrow sì ormai insieme a Vector i giorni sono altri news vediamo se c'è un'altra edizione di Skyrim di cosa no dai è uscita la limite è uscita da oggi a sorpresa la Skyrim Anniversary Edition su Switch vabbè giustamente tutte le edizioni devono uscire ovunque amici abbiamo finito la live praticamente altro che Grounded possiamo anche chiudere l'Aldar eh sì 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 però aspetta prima devo rideare chi dico io Luca Comics and Games oggi c'è una persona importante che fa ma non c'è tipo la Roby e Karim a Luca scusa ma è presto credo mi pare che iniziavole alle 3 alle 10 allora volendo c'è Jimmy comunque c'è allora c'è Mike Jimmy c'è Rob fammi vedere un attimo che paura c'è Rob l'avevo ridato l'altra volta quando tu non c'eri ah ok sì c'è l'evento speciale a Lucca vediamo chi c'è eh per adesso c'ho la pubblicità un attimo eh anch'io dei gamer che fanno i medici no io c'ho God of War io la Hogan God of War però mi sa che erano ci sono un sacco di emot della Roby in chat quindi potrebbe esserci la Roby se c'è la Roby o Karim rediamo loro però eh allora forse adesso c'è una carrellata di streamings perché sta iniziando adesso forse credo è un'ora e quaranta che sono in live c'è c'è idoneo però credo stiano facendo una carrellata adesso di quello che si sarà durante la fiera sono con la scabbia pure vero presumo inizino adesso quindi se c'è questa carrellata non c'è non c'è un ragazzo c'è Gabriella adesso ma chi so ma sono video sono video terenas i nostri host su Twitch l'ha scritto Michelle ma sì ma la chat non si può guardare comunque ragazzi di Luca però mio mio madonna santa che merda ci hanno i moderatori anche c'è veramente alcuni delle scimmie proprio aspettiamo la fine del video vediamo che succede no ma mi sa che o è finita già no che ci sarà sicuramente qualcosa durante tutta la giornata però non so se adesso c'è qualcosa effettivamente ho guardato anche su Instagram è finita adesso erano i saluti finabili vabbè allora niente c'è Mike di nuovo c'è Mike o Jimmy Jimmy che era in 12 ore in 12 ore no diceva in chat non lo so no 12 ore deve sta allenando per il costo di fall ah no oggi oggi si 12 ore alle 18 si vai vai andiamo da Jimmy Mike lo facciamo domani si 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 Mike la prossima volta dai allora fammi dai dare il gittazzino ovviamente gli ditegli bentornato anche poi credo credo che su Luca ci siano cose durante tutta la giornata e quindi si si chiaramente se volete andare poi da Karim Roby eccetera amici ci vediamo questa sera con Fasmofobia a questo punto senza Marco che è uno sfigato un cretino di merda quindi con Lino e Clay ci sentiamo domani mattina no si magari giochiamo anche un po' domani mattina cosa ne dici eh vediamo se riusciamo a fare cosa fate groundy dalla fine facciamo finiamo la casa facciamo un po' il groundy che doveva fare oggi eh si se vuoi rimanere anche qui poi vedrete sono due ore dritto qua non fare niente no ma magari vediamo poi vediamo domani mattina in caso amici a stasera che profumo bestiale